63. Bonadea ha una visione Quando Ulrich, la mattina che seguì a quella notte, si alzò tardi e con la membra peste, gli fu annunciata la vista di Bonadea. Era la prima volta che si rivedevano dopo la rottura. Bonadea durante la separazione aveva pianto molto, si era sentita sovente profanata e maltrattata, aveva spesso rullato come un tamburo velato a lutto. Aveva avuto molte avventure e molte delusioni. E quantunque ad ogni avventura il ricordo di Ulrich la precipitasse in un pozzo profondo, ne riusciva fuori dopo ogni delusione, corrucciata e impotente, come il dolore desolato di cui nessuno si cura in un viso di bimbo. Bonadea aveva già chiesto cento volte silenziosamente perdono al suo amico per la propria gelosia e punito al perfido orgoglio, come diceva lei, e alla fine risolse di offrirgli una conclusione di pace. Era gentile, melanconica e bella seduta lì di fronte a lui e sentiva un gran male allo stomaco. Egli restava dinanzi come un adolescente, la pelle marmorea pulita dai grandi eventi e dalle attività diplomatiche che egli attribuiva. Bonadea non aveva mai notato prima quanto fosse energico e risoluto il suo viso. Avrebbe volentieri capitolato con tutta la sua persona, ma non osava andar tanto oltre e lui non muoveva ciglio per invitarvela. Quella freddezza era indicibilmente triste per lei, ma grandiosa come una statua. Inopinatamente Bonadea gli prese la mano abbandonata e la baciò. Ulrich le accarezzò i capelli, meditabondo. Le gambe le si piegarono sotto nel modo più femminile del mondo ed ella fu lì per cadere in ginocchio. Allora Ulrich la depose dolcemente su una poltrona e offrì un whisky al seltz e si accese una sigaretta. Una signora non beve whisky al mattino, protestò Bonadea. Per un attimo trovò di nuovo la forza di far l'offesa e il cuore le salì in gola, perché le sembrò che la naturalezza con cui Ulrich le offriva una bevanda così forte e secondo lei sconveniente, contenesse un'intenzione cattiva. Ma Ulrich disse amabilmente, ti farà bene, tutte le donne che fanno della grande politica bevano whisky. Perché Bonadea, per riacquistare il favore di Ulrich, aveva detto che ammirava l'azione patriottica e che vi avrebbe collaborato volentieri. Questo era il suo piano. Ella credeva sempre parecchie cose in una volta e le mezze verità le facilitavano il mentire. Il whisky era oro liquido e scaldava come il raggio di maggio. La Bonadea sembrava di avere 70 anni e di star seduta davanti a una casa su una panchina in giardino. Diventava vecchia. I suoi figli crescevano. Il maggiore aveva già 12 anni. Era senza dubbio una vergogna andare in casa di un uomo che conosceva appena solo perché aveva certi occhi con i quali la guardava come uno che stia dietro i vetri di una finestra. Si riconoscono benissimo in lui, e la pensava, certe qualità che dispiacciano e che dovrebbero servire da ammonimento. Si potrebbe addirittura, se qualcosa ci potesse arrestare in simili casi, troncare tutto, ardendo di vergogna e forse anche di collera. Ma poiché non accade, quell'uomo si immedecima sempre più appassionatamente della sua parte. E quanto a sé, si ha l'impressione di essere uno scenario inondato di luce artificiale. Sono occhi da palcoscenico, baffi da ribalta, bottoni da abbigliamento teatrale, quelli che ci stanno di fronte, e i momenti che passano fra l'ingresso nella stanza, fino al terribile primo gesto di nuovo disincantato, si svolgono in una coscienza che se ne è uscita dal nostro cervello, e tappezza di follia le pareti della stanza. Monadea non usava proprio le stesse parole, anzi, non pensava che parzialmente in parole, ma mentre cercava di rappresentarsi la cosa, si sentì subito di nuovo in balia di quella metamorfosi della coscienza. Chi la sapesse descrivere sarebbe un grande artista. No, sarebbe un pornografo, pensò riguardando Ulrich, perché neanche in quello stato perdeva per un istante i buoni propositi e la volontà della decenza. Solo che stavano di fuori e aspettavano, e in quel mondo, sconvolto dal desiderio, non avevano nulla da dire. Era quello il maggior tormento di Monadea quando ritornava alla ragione. La metamorfosi della coscienza per via del turbamento sessuale, alla quale gli altri non fanno caso, in lei per la profondità e subitaneità del turbamento, come pure del rimorso, prendeva una forza che la spaventava appena era tornata nella tranquilla cerchia domestica. Si considerava allora come una pazza. Non osava quasi alzar gli occhi i suoi suoi bambini, per paura di far loro del male col suo sguardo impuro. E trasaliva, se il marito la guardava con un po' di tenerezza, e paventava la familiarità del rimaner soli. Perciò, nelle settimane di rottura, aveva formato il progetto di non aver più altri amanti che Ulrich, e gli doveva darle un appoggio e salvaguardarla da altre trasgressioni. Come ho potuto permettermi di biasimarlo? Pensava adesso rivedendolo per la prima volta. È tanto più perfetto di me, e gli attribuì il merito di essere stato migliore nel periodo dei loro amori, e pensò anche che alla prossima festa di beneficenza, egli doveva introdurla nel suo nuovo circolo di conoscenze. Bonadea fece silenziosamente un giuramento, e mentre immaginava tutto ciò, le spuntarono negli occhi lacrime di commozione. Ma Ulrich beveva il suo whisky con la lentezza di un uomo che deve corroborare la sua decisione. Per il momento non era ancora possibile presentarla a Diotima, le dicherò. Bonadea, si intende, volle sapere di preciso perché non era possibile, e poi volle sapere di preciso quando sarebbe stato possibile. Ulrich dovette spiegarle che lei non sarà distinta né nelle arti né nelle scienze, né nella beneficenza, e perciò ci sarebbe voluto un pezzo, prima che egli persuadesse Diotima della necessità della sua collaborazione. Bonadea nel frattempo aveva provato verso Diotima sentimenti diversi. Aveva udito parlare abbastanza della sua virtù per non essere gelosa di lei. Anzi, invidiava e ammirava quella donna che sapeva tenere avvinto il suo amico senza fargli concessioni contrarie alla morale. Attribuiva all'influsso della cugina la freddezza di statua che le pareva di osservare in Ulrich. In quanto a se stessa, ella si definiva passionale, comprendendo in quel concetto la propria mancanza d'onore nonché una onorevole giustificazione della medesima. Ma ammirava le donne frigide, con la stessa impressione che provano i disgraziati proprietari di mani perpetuamente umide quando toccano una mano molto bella e asciutta. E lei, pensò, è lei che ha cambiato Ulrich. Un trapano duro le trivellò il cuore, un trapano dolce le trivellò le ginocchia. I due trapani, che giravano contemporaneamente e oppostamente, fecero quasi svenire Bonadea quando essa incontrò la resistenza di Ulrich. Ella giocò la sua ultima carta, Mons Brugger. A furia di riflettere dolorosamente, si era accorta che Ulrich aveva una strana predilezione per quella sinistra figura. Ma lei invece ripugnava la brutale sensualità che secondo lei si esprimeva nelle azioni di Mons Brugger. Ella considerava la cosa, senza saperlo si intende, esattamente secondo la mentalità delle prostitute, che con un sentimento schietto e senza alcun romanticismo borghese, vedono in un delinquente sessuale una minaccia per la loro professione. Ma lei, inclusi i suoi inevitabili falli, aveva bisogno di un mondo vero e ordinato, e Mons Brugger doveva aiutarla a ricostruirlo. Poiché Ulrich aveva un debole per colui, ed ella aveva un marito giudice che poteva dare informazioni utili, era maturato in lei spontaneamente, durante l'abbandono, il pensiero di unire il proprio debole al debole di Ulrich per intervento di suo marito, e quel miraggio aveva la forza consolatrice di una volutà, benedetta da un sentimento di legalità. Ma quando incominciò a parlarne al buon consorte, questi si stupì del suo ardore giuridico, pur sapendo che lei si infiammava facilmente per tutto ciò che era nobile e buono, e poiché non era soltanto giudice ma anche cacciatore, rispose, buonariamente evasivo, che l'unica cosa giusta era sterminare dappertutto e senza troppi sentimentalismi le belve nocive, e non volle dare altri schiarimenti. A un secondo tentativo, fatto qualche tempo dopo, monadea ottenne dal marito soltanto la supplementare dichiarazione, che secondo lui fare figli spettava alle donne, ma uccidere era una faccenda riguardante gli uomini, e poiché lei temeva di insospettirlo col dimostrare troppo zelo, la via giuridica per il momento era rimasta esclusa. Così aveva ripiegato sull'idea della grazia, l'unica possibilità di giovare a Mosbrugger per far piacere ad Ulrich, e quella via passava, cosa non troppo sorprendente ma anzi piuttosto attraente, attraverso Diotima. Monadea in spirito si vedeva amica di Diotima e appagava il suo desiderio di conoscere l'ammirata rivale col pretesto di una questione improrogabile, casomai l'orgoglio le avesse impedito di farlo per motivi personali. Si era proposta di conquistarla alla causa di Mosbrugger, il che evidentemente, lo aveva indovinato subito, a Ulrich non era riuscito, e la fantasia le dipingeva la cosa in bellissime scene. L'alta marmoria di Diotima zingeva col braccio le spalle palpitanti di Bonadea, oppresse dal peso del peccato, e Bonadea si attribuiva più o meno la parte di ungere con una goccia di fragilità quel cuore celestialmente intatto. Questo era il progetto che il sottopose all'amico perduto. Ma quel giorno Ulrich era assolutamente indifferente all'idea di salvare Mosbrugger. Conosceva i bei sentimenti di Bonadea e sapeva come facilmente in lei, l'accendersi di un singolo nobile slancio si tramutava nel panico di un incendio che le invadeva tutto il corpo. Le dichiarò che non aveva la minima intenzione di mischiarsi nel procedimento a carico di Mosbrugger. Bonadea lo guardò con begli occhi risentiti, in cui l'acqua notava sul ghiaccio come al limite fra l'inverno e la primavera. Bisogna dire che Ulrich non aveva mai perduto una certa gratitudine per quel loro incontro puerile e bello, la notte che egli giaceva svenuto sull'astrico e Bonadea sarà coccolata vicino a lui, e l'incerta avventurosa indeterminatezza del mondo, della gioventù e dei sentimenti, stillava dagli occhi della giovane donna nella sua coscienza che s'andava ridestando. Cercò dunque di mitigare l'offensivo rifiuto e di diluirlo in un discorso più lungo. Immagina, le suggerì, che stai attraversando di notte un gran parco e i due vagabondi ti si avvicinano. Penseresti che sono gente da compatire e che la società è colpevole della loro rozzezza? Ma io non passo mai per un parco, di notte. Ribattei subito Bonadea. Se sopraggiungesse un poliziotto, forse non li faresti arrestare? Gli chiederei di proteggermi. Cioè di arrestarli? Io non so che cosa il poliziotto intenderebbe fare. Del resto Mosbrugger non è un vagabondo. Va bene, allora diciamo che fa dei lavori di falegnameria nel tuo appartamento. Sei sola in casa con lui. Ed egli incomincia a stralunare gli occhi di qua e di là. Bonadea si ribellò. Ma è orribile quello che mi chiedi di immaginare. Certo, disse Ulrich, ma volevo dimostrarti che le persone che perdono facilmente la sinderesi sono assai sgradevoli. Si può permettersi di essere imparziali nei loro confronti solo quando il danno è toccato ad un altro. In tal caso, si sa, provocano tutta la nostra tenerezza e sono le vittime dell'ordine sociale o del destino. Devi ammettere che nessuno è responsabile delle sue colpe, a guardarle con i suoi propri occhi. Per lui sono tutt'al più errori o cattive qualità in un insieme che non per questo diventa peggiore. E certo ha perfettamente ragione. Bonadea aveva qualcosa da aggiustare attorno a una calza. Ma era costretta a guardare Ulrich col capo un po' arrovesciato all'indietro. Così che sul ginocchio non sorvegliato dagli occhi si sviluppò tutta una vita ricca di contrasti tra gli orli di pizzo, calza aderente, dita nervose e la molle delicatezza della pelle madre perlacea. Ulrich s'accese svelto una sigaretta e continuò. L'uomo non è buono, ma si è sempre buono. È un'immensa differenza, lo capisci? Si sorride di questa sofistica dell'amor proprio, ma se ne dovrebbe trarre la conclusione che l'uomo non può essere cattivo. Può soltanto compiere cattive azioni. Una volta stabilito questo, ci troveremmo al giusto punto di partenza di una morale sociale. Con un sospiro Bonadea si rimise a posto la gonna. Si tirò su e cercò di calmarsi con una sorsata di quel pallido fuoco dorato. Adesso ti spiegherò, riprese Ulrich sorridendo, perché pur sentendo per Monsbrugger tutto quel che si vuole, non si possa però fare niente per lui. In fondo quei casi sono come un capo di filo sciolto. Ci si tira, tutto il tessuto sociale si disfa. Ora te lo dimostrerò, mediante problemi puramente razionali. Bonadea perse inesplicabilmente una scarpetta. Ulrich si chinò a raccoglierla ed il piede tepido venne incontro come un bambino alla scarpa che gli teneva in mano. «Lascia, lascia, faccio da me», disse Bonadea tendendogli il piede fin sotto il naso. «Prima di tutto ci sono i problemi di psichiatria giuridica», seguitò Ulrich implacabilmente, mentre dalla gamba di Bonadea, effluvio della diminuita capacità di intendere e di volere, gli saliva le narici. «Sappiamo che i medici sarebbero già quasi in grado di impedire la maggior parte di simili delitti, pur di impegnarvi i mezzi finanziari indispensabili. Quindi si tratta ormai di un problema sociale». «Oh, ti prego, quello lascialo stare», pregò Bonadea, sentendo per la seconda volta la parola «sociale». «A casa, quando ne parlano, io esco dalla stanza, ma noi a morte». «Va bene», concesse Ulrich. «Volevo dire che, come la tecnica, da un pezzo sa trasformare cadaveri, immondizi a rottami e veleni in cose utili, anche la tecnica psicologica sarebbe ormai quasi in grado di farlo». «Ma il mondo procede con tutto il suo comodo nella soluzione di tali problemi». «Lo Stato tira fuori quattrini per un mucchio di sciocchezze, ma non può mai spendere un soldo per risolvere più importanti problemi morali». «È nella sua natura, perché lo Stato è l'essere più stupido e maligno che esista», lo disse in tono convinto, ma Bonadea cercò di ricondurlo al nocciolo della questione. «Tesoro», disse l'anguida, «ma non è appunto il meglio per Mo Spruger l'essere irresponsabile. Probabilmente sarebbe più importante ammazzare paretti responsabili che salvare un irresponsabile dall'essere ammazzato», ribatte Ulrich. Adesso camminava su e giù proprio davanti a lei. «Bonadea lo trovava rivoluzionario ed elettrizzante. Riuscì a imprigionargli una mano e se la posò sul petto». «Bene», disse lui, «ora ti spiegherò la questione sotto l'aspetto sentimentale». Bonadea gli spianò le dita e le allargò sul proprio seno. Lo sguardo che accompagnava l'atto avrebbe commosso un cuore di sasso. A Ulrich parle, nei minuti seguenti, di avere in petto due cuori che battevano in dissonanza come gli orologi nella bottega di un orologiaio. Chiamando a raccolta tutte le sue forze, rimese le cose a posto e disse dolcemente «No, Bonadea». Bonadea era ormai vicino alle lacrime e Ulrich riprese in tono suasivo «Non è una contraddizione agitarti tanto per questo fatto che ti ho raccontato per caso, mentre non ti accorgi neanche dei milioni di ingiustizie altrettanto gravi che avvengono ogni giorno». «Ma che cosa c'entra?», protestò Bonadea. «Questa è una cosa che so, e sarei un mostro se rimanessi indifferente». Ulrich opinò che bisognava mettersi calmi, anzi furiosamente calmi, soggiunse. Si era liberato di Bonadea ed era andato a sedersi un po' discosto. «Oggi tutto accade per ora e frattanto», osservò. «Bisogna che sia così, perché ragione cosciente ci costringe ad avere un cuore spaventosamente incosciente. aveva versato anche per sé un bicchiere di whisky e tirò su le gambe sul divano. Cominciava a sentirsi stanco. Ogni essere umano, gli dichiarò, in principio medita su tutta quanta la vita, ma quanto più medita, tanto più il campo si restringe. Quando è maturo, tu hai davanti a te un individuo che di quel preciso millimetro quadrato sa tutto. Nel mondo intero saranno tutt'al più due dozzine di uomini, a intendersene così. Egli vede che tutti gli altri che ne sanno di meno dicono sciocchezze a proposito del suo millimetro. Eppure non può muoversi, perché se si sposta anche di un solo micromillimetro, dice sciocchezze anche lui. Adesso la sua stanchezza era di oro diluito, come la bibita che stava sul tavolo. «Anch'io da mezz'ora sto dicendo sciocchezze», pensò. Ma quello stato di diminuzione era gradevolissimo. Aveva solo paura che a buona dea venisse in mente di sedergisi accanto. C'era un solo rimedio, parlare. Si sosteneva il capo e stava disteso come le figure tombali della cappella medicea. Se ne accorse a un tratto e davvero in quella pugitura gli parve che una grandiosità gli scorresse nel corpo. Si ribrava immobile e si sentiva più poderoso di quel che era. Per la prima volta da lontano gli parve di capire quell'opera d'arte che finora gli era rimasta estranea. E invece di parlare, tacque. Anche buona dea sentiva qualcosa. Era un momento, come si chiama ciò che non si può definire. Una specie di catarsi univa i due che a un tratto erano ammutoliti. «Che cosa è rimasto di me?» pensava Ulrich amaramente. «Forse un uomo valoroso e non venale, che si illude di rispettare solo poche leggi esteriori per amore della libertà interiore». Ma questa libertà consiste non nel poter pensare ciò che si vuole, nel sapere in ogni situazione umana perché non dobbiamo sentirci legati ad essa e nel non sapere mai da che cosa si vorrebbe lasciarsi legare. Ma questa libertà consiste nel poter pensare ciò che si vuole, nel sapere in ogni situazione umana perché non dobbiamo sentirci legati ad esse e nel non sapere mai da che cosa si vorrebbe lasciarsi legare. In quel momento poco felice, in cui la strana piccola ondata di sentimento, che per un attimo l'aveva investito tornava a dissolversi, sarebbe stato pronto ad ammettere di non possedere altro che la capacità di scoprire in ogni cosa due lati, quell'ambivalenza morale che distingueva quasi tutti i contemporanei ed era la tendenza della sua generazione, o forse il suo destino. I rapporti di Ulrich col mondo erano diventati pallidi, larvali e negativi. Che diritto aveva lui di trattare male Bonadea? Era sempre lo stesso colloquio irritante che si ripeteva tra loro. Nasceva dall'acustica del vuoto, in cui uno sparo li suona con doppia intensità e non cessa di riecheggiare. Lo opprimeva a non saperle più parlare se non in quel modo, e per lo speciale tormento che esso infliggeva a entrambi, gli venne in mente il nome grazioso e semisignificativo di barrocchismo del vuoto. Si sollevò per dirle qualcosa di amabile. «M'è venuto uno strano pensiero», disse rivolto a Bonadea che sedeva sempre in atteggiamento pieno di dignità. «Una cosa buffa, una curiosa differenza. L'uomo responsabile può sempre agire anche diversamente, ma l'irresponsabile mai». Bonadea fece una risposta molto significativa. «Oh, tu», disse. Fu l'unica interruzione e il silenzio si richiuse. Non le piaceva che Ulrich in sua presenza parlasse di argomenti generali. Nonostante i propri errori, si sentiva con diritto nel mezzo di una folla di persone simili a lei e aveva una giusta suscettibilità per quel modo di Ulrich, insocievole, rustico ed esagerato di offrirle pensieri in luogo di sentimenti. E tuttavia, delitto, amore e tristezza si erano ormai saldati in lei in un cerchio di idee che era estremamente pericoloso. Adesso Ulrich non le sembrava più affatto così intimidante e perfetto come nei primi momenti del rivedersi. Ma in compenso egli aveva guadagnato qualcosa di fanciullesco, che eccitava l'idealismo di buona dea, come un bambino che non osa varcare un ostacolo per correre a buttarsi fra le braccia di sua madre. Già da moltissimo tempo ella sentiva per lui una tenerezza libera, senza vincoli di sorta. Ma poiché Ulrich aveva respinto i suoi primi approcci, si era imposta il riservo. Non si era ancora rimessa dal ricordo dell'ultima visita, quando era giaciuta su quel divano svestita e smarrita, ed era decisa a rimanere piuttosto seduta semmo all'ultimo sulla sua seggiola in cappello e veletta, se proprio era necessario, affinché egli capisse di avere a che fare con una che in caso sapeva dominarsi quanto la rivale di Otima. Monadea non riusciva mai ad animare con grande pensiero la grande commozione in cui le metteva la vicinanza di un amante. È vero che lo stesso purtroppo si può dire della vita, nella quale aveva molto eccitamento e poco senso, ma Monadea non lo sapeva e cercava di esprimere un qualche pensiero. In quelli di Ulrich mancava la dignità che lei trovava necessaria e probabilmente ne cercava uno più bello e più romantico. Ma l'ideale ritegno e la bassa attrazione e una paura terribile di essere attratta anzitempo si mescolavano in lei con l'impulso del silenzio in cui vibravano le azioni inibite e col ricordo della gran pace che l'aveva unita per un momento all'amante. Finalmente fu come quando la pioggia è nell'aria e non può cadere. Uno stordimento che si diffondeva per tutta la persona e atterriva Monadea con l'idea di poter perdere il dominio di sé senza accorgersene. E improvvisamente ne balzò fuori un'illusione fisica, una pulce. Monadea non sapeva se fosse realtà o fantasia. Sentì un brivido nel cervello, un'impressione indescrivibile come se un'idea si fosse staccata dall'oscura comunità delle altre e tuttavia fosse soltanto immaginazione. E nello stesso tempo un vero, inequivocabile brivido sulla pelle. Trattenne il respiro. Proprio come quando, trip-trap, qualcosa viene su per la scala e si sa che non c'è nessuno eppure si sente fare trip-trap. Come illuminata da un baleno, Monadea capì che era un segno involontario della scarpetta perduta. Per una signora era un espediente disperato. Tuttavia, nel momento in cui voleva scacciare il demonio, sentì una trafittura acuta. Fece un piccolo strillo. Divenne di fuoco e insunse a Ulrich di aiutarla a cercare. Le pulci prediligono anch'esse le regioni care agli amanti. La calza fu esaminata da cima a fondo. La camicetta dovette essere slacciata. Monadea dichiarò che l'aveva presa in tram o da Ulrich. Ma la pulce non si trovò e non aveva lasciato tracce. «Non so che cosa sia stato», disse Monadea. Ulrich sorrise con inaspettata bontà. Allora Monadea si mise a piangere, come una bambina che si è comportata male. Il generale Stum von Bordwer fa una visita a Diotime. Il generale Stum von Bordwer venne a porgere i suoi omaggi a Diotime. Era questi l'ufficiale intervenuto alla grande seduta inaugurale, dove aveva anche fatto un discorso che aveva impressionato tutti, senza impedire però che nella composizione dei comitati per la grande opera di pace il ministero della guerra fosse lasciato da parte per ragioni evidenti. Era un generale molto imponente, con la pancetta e un piccolo spazzolino al posto dei baffi. La sua faccia tonda suggeriva l'idea di una cerchia domestica priva di qualunque patrimonio all'infuori della prescritta dote militare. Egli disse a Diotime che al soldato in camera di consiglio si addice a una parte modesta. D'altronde era ovvio che per motivi politici il ministero della guerra non poteva essere considerato nella formazione dei comitati. Tuttavia egli si permetteva di affermare che l'azione progettata doveva agire verso l'esterno e quel che agisce verso l'esterno è la potenza di un popolo. Ripetè che il famoso storiografo Traitsche aveva detto lo Stato è la forza di prevalere nella lotta dei popoli. La forza che si spiega in tempo di pace tiene lontana la guerra o almeno ne abbrevia l'orrore. Parlò ancora per un quarto d'ora, fece alcune citazioni classiche, soggiungendo che se le ricordava dal ginnasio e che quegli anni di studi umanistici erano stati i più belli della sua vita. Cercò di lasciare intendere a Diotima che l'ammirava e che aveva trovato affascinante il suo modo di dirigere la grande seduta. Voleva soltanto ripetere che un ben inteso sviluppo delle forze armate, che erano assai inferiori a quelle delle altre nazioni, sarebbe stato la prova più eloquente delle intenzioni pacifiche del paese. Ridicherò infine che aspettava con fiducia una spontanea partecipazione popolare ai problemi dell'esercito. Quell'amabile generale aveva messo a Diotima una mortale paura. C'erano allora in Cacania famiglie che ricevevano ufficiali in casa perché le ragazze sposavano ufficiali e famiglie le cui ragazze non sposavano ufficiali per principio perché non avevano quattrini per la dote militare e in quelle case ufficiali non se ne vedevano. La famiglia di Diotima apparteneva per entrambe le ragioni alla seconda categoria e quindi la coscienzosa signora si era fatta l'idea che un militare fosse una specie di morte vestita di strazzi multicolori. Ella rispose che verano nel mondo tante cose grandi e sublimi per cui la scelta non era agevole. Era un gran privilegio poter additare al mondo un simbolo eccelso in questi tempi di materialismo ma era anche un dovere difficile e infine la manifestazione doveva esprimersi nel seno stesso del popolo perciò lei era costretta a relegare in secondo piano i propri desideri. Compose con cura il suo discorso legando le parole si sarebbe detto con cordelline giallo nere e bruciando sulle proprie labbra l'incenso di blande espressioni burocratiche. Ma quando il generale si fu congedato l'animo dell'egregia donna venne meno. Se fosse stata capace di un sentimento basso come l'odio avrebbe odiato quello miciatolo tondo con gli occhi adulatori e i bottoni d'oro sulla pancia. Ma poiché questo non l'era possibile si sentì soltanto oscuramente offesa e non sapeva dire perché. Senza badare al freddo invernale spalancò le finestre e andò parecchie volte sciù e giù per la stanza con un gran frusciare di vesti. Quando rinchiusa le finestre aveva gli occhi pieni di lacrime. Non fu molto stupita. Era già la seconda volta che piangeva senza motivo. Ricordò una notte in cui aveva lacrimato al fianco del marito senza saperselo spiegare. Quella volta il fenomeno puramente nervoso del tutto privo di contenuto era ancora più chiaro. Quel grasso ufficiale le faceva venire le lacrime agli occhi come una cipolla e non centrava nessun sentimento ragionevole. Era buon diritto turbata. Un'angoscia presaga le diceva che un lupo invisibile s'aggirava intorno al suo stabio e che era tempo di scacciarlo con la forza dell'idea. E così dopo la visita del generale ella risorse di convocare in gran fretta quella adunata di spiriti magni che doveva darle modo di assicurare un contenuto all'azione parallela. 64 dai colloqui di Arnheim e Diotima fu un sollievo per il cuore di Diotima che Arnheim fosse per l'appunto ritornato da uno dei suoi viaggi e a sua completa disposizione. Ho avuto una conversazione qualche giorno fa con suo cugino a proposito dei generali. Egli replicò subito e lo disse con aria di chi lascia supporre un nesso preoccupante ma non vuol dire chiaramente di che si tratta. Diotima ebbe l'impressione che quel suo cugino pieno di contraddizioni e così poco infiammato d'entusiasmo per l'azione favorisse per giunta gli oscuri pericoli che emanavano dal generale e Arnheim riprese. Non vorrai esporre la cosa allo scherno in presenza di suo cugino e gli disse e con queste parole cambiò piega al discorso. Ma ci terrai a farle sentire ciò che lei come profana non può sapere. La connessione fra affari e poesia. Voglio dire si intende? Gli affari in senso lato? Gli affari di portata mondiale? Come quelli che io sono stato destinato per nascita a trattare. È un'attività affine a quella poetica. Possiede lati irrazionali, mistici addirittura. starai quasi per dire che questi lati sono ancor più propri degli affari che della poesia. Vede, il denaro è una potenza straordinariamente intollerante. In ogni attività a cui l'uomo si dedica con tutto quanto se stesso c'è probabilmente una certa dose di intolleranza, rispose con qualche esitazione di Otima che stava ancora pensando alla prima parte incompiuta del discorso. Soprattutto nel denaro, ribatte Arnheim. Gli sciocchi si immaginano che aver denaro sia un godimento. Invece è una inquietante responsabilità. Non parliamo delle innumerevoli esistenze che dipendono da me, così che io per loro rappresento quasi il destino. Mi permetto soltanto di ricordare che mio nonno incominciò con un'impresa per il trasporto delle immondizie in una piccola città della Renania. A quelle parole di Otima ebbe un brivido improvviso che le sembrò di imperialismo economico. Ma era un equivoco. Ella infatti non andava esente dai pregiudizi del suo ambiente sociale e avendo pensato alla parola immondizia a un letamaio, la coraggiosa confessione del suo amico la faceva arrossire. Con quell'impresa di utilizzazione dei rifiuti, seguito al reo confesso, mio nonno fondò la grandezza degli Arnheim. Mio padre era ancora un self-made man, se si pensa che fu lui in 40 anni a fare di quella ditta una casa mondiale. Ha frequentato la scuola tecnica per non più di due anni, ma può penetrare con uno sguardo le situazioni più intricate e sa molto prima degli altri tutto quello che ha bisogno di sapere. Io ho studiato economia politica e tutte le scienze possibili e immaginabili. Lui le ignora e non ci si può assolutamente spiegare come fa, ma certo è che non commette mai uno sbaglio. Questo è il segreto della vita semplice e forte, nobile e sana. La voce di Arnheim, mentre gli parlava del potere, aveva preso un accento insolito, pieno di reverenza, come se il suo tono calmo e dottrinale si fosse leggermente incrinato. Di ottima ne fu stupita, tanto più che Ulrich le aveva descritto il vecchio Arnheim come un uomo basso, largo di spalle, con la faccia ossuta e il naso a patata, sempre vestito di un'ampia giubba sbottonata a coda di rondine, che manovrava i suoi valori azionari con la prudenza e la tenacia di un giocatore di scacchi. E senza aspettare risposta, Arnheim riprese dopo breve silenzio. Quando un'impresa si estende come le pochissime di cui sto parlando, non vi è quasi più un fatto della vita col quale non sia connessa. È un piccolo cosmo. Lei non può credere quante questioni in apparenza niente ha fatto commerciali, questioni artistiche, morali, politiche, io debba discutere nei miei colloqui con il direttore. Ma la casa non fiorisce più come nei primi tempi, i tempi che vorrei definire eroici. Anche per le ditte, nonostante il buon andamento, c'è un misterioso limite di crescenza come per la vita organica. Non si è mai chiesto perché nessun animale oggigiorno cresca fino a superare la grandezza di un elefante? Lei trova lo stesso mistero nella storia dell'arte e negli strani rapporti della vita dei popoli, delle civiltà e dei secoli. Adesso Diotima era pentita di aver rabbrividito per l'utilizzazione dei rifiuti. E si sentiva confusa. Di tali misteri è piena la vita. Ci sono forze contro le quali la ragione è impotente. Mio padre è in lega con esse. Ma un uomo come suo cugino, disse Arnheim, un uomo attivo, sempre occupato a pensare come si potrebbe cambiare e migliorare il mondo, non ha comprensione per tali cose. Alla seconda menzione del nome di suo cugino, Diotima lasciò capire con un sorriso che Ulrich non poteva in alcun modo pretendere di esercitare un influsso su di lui. L'epidermide di Arnheim, uniforme alquanto giallastra, liscia sul viso come la pelle di una pera, si era un poco arrossata alle guanze. Egli aveva ceduto a uno strano impulso, che Diotima da parecchio tempo destava in lui, di confidarlesi fino in fondo, senza riserve. Ora si ricusa in sé. Prese un libro sul tavolino, mi lasse il titolo senza capirlo, lo posò di nuovo impaziente e disse con la sua voce solita, che in quel momento turbò Diotima come il gesto di un uomo che acciuffi i propri vestiti, rivelando così che era nudo. Ho divagato assai. A proposito del generale, a mio parere la cosa migliore è che lei realizzi il più presto possibile il suo progetto di elevare la nostra azione con l'apporto dello spirito umanistico e dei suoi rappresentanti qualificati. Ma non occorre che lei respinga di proposito il generale. Forse personalmente è pieno di buona volontà e lei conosce il mio principio che non bisogna mai perdere l'occasione di trasportare lo spirito in una sfera di potenza. Diotima gli prese la mano e riassunse il colloquio in questa frase di congedo. La ringrazio per la sua sincerità. Arnheim, perplesso, tenne per un momento nella sua quella tenera mano e la pensò pensosamente, come se avesse dimenticato di dire qualcosa. 65. Tra Ulrich e Arnheim c'è qualcosa che non va. In quel periodo Ulrich si prendeva di rado il gusto di descrivere alla cugina le esperienze che faceva al servizio di sua signoria e soprattutto ci teneva a mostrarle ripetutamente le due cartelle con le proposte che il conte Langstorff riceveva. Potente cugina, egli dichiarava con un gran fascio di carte fra le mani. Da solo non riesco più a cavarmela. Pare che il mondo intero s'attenda da noi miglioramenti e riforme e una metà incomincia con le parole «Bisogna abolire», mentre l'altra proclama «Bisogna instaurare». Ho qui esortazioni che vanno da basta con l'inclusso di Roma fino a «è giunta l'ora dell'orticoltura». Lei che cosa sceglierebbe? Non era facile mettere ordine nei desiderata che il mondo esponeva quotidianamente al conte Langstorff, ma due gruppi facevano spicco per la loro mole. L'uno incolpava dei mali presenti un fatto specifico e ne esigeva l'abolizione e quei fatti erano niente meno l'ebraismo o la chiesa cattolica, il socialismo o il capitalismo, il macchinalismo o lo sviluppo insufficiente della tecnica, la mescolanza delle razze o la divisione delle razze, la proprietà terriera oppure l'urbanesimo, l'intellettualismo oppure il basso livello culturale del popolo. L'altro gruppo invece additava una meta che bastava raggiungere perché tutto andasse bene e l'unica differenza tra queste mete che bisognava perseguire e i fatti che secondo il primo gruppo bisognava distruggere stava nella chiave in cui si esprimeva il loro sentimento, appunto perché vi sono in questo mondo natura inclini alla critica e natura inclini all'approvazione. Così gli scritti del secondo gruppo affermavano in tono lietamente negativo che bisognava farla finita col ridicolo culto delle arti, perché la vita è un poeta più grande di tutti gli scribacchini e chiedevano che descrizioni di viaggi e relazioni di processi divenissero accessibili a tutti, mentre nello stesso caso le lettere del primo gruppo sostenevano in tono lietamente affermativo che l'estasi dell'alpinista in vetta al monte vince tutte le esaltazioni dell'arte, della filosofia e della religione e perciò invece di queste cose è meglio incoraggiare l'istituzione di club alpini. Così, sempre per due vie opposte, si richiedeva ora il rallentamento del ritmo della vita, ora un concorso a premi per il miglior romanzo d'appendice, perché la vita è insopportabilmente oppure deliziosamente breve e si auspicava la liberazione dell'umanità da e mediante le colonie giardino, l'emancipazione della donna, il ballo, lo sport e il culto della casa, come pure da innumerevoli altre cose, mediante innumerevoli altre. Ulrich chiuse le cartelle e iniziò un dialogo privato. Potente cugina, disse, è uno strano fenomeno che metà di costoro cerchi la salvezza nell'avvenire e l'altra metà nel passato. Non so quale conclusione se ne debba trarre. Sua signoria direbbe che nel presente non c'è salvezza. Sua signoria ha qualche disegno che riguarda la chiesa? domandò Diotima. Per adesso sei convinto che nella storia dell'umanità non può esservi un regresso volontario. Ma il guaio è che non possiamo neanche aspettarci un progresso utile. Mi permetto di osservare che è una situazione molto curiosa quella di non andare né avanti né indietro e per giunta trovare insopportabile il momento presente. Quando Ulrich parlava così, Diotima si barricava dentro la sua alta persona come in una torre, segnata con tre asti rischi nella guida turistica. Crede lei, signora, chiese Ulrich, che un uomo il quale combatte oggi pro o contro una causa, se domani diventasse per miracolo il padrone assoluto del mondo, farebbe subito il giorno stesso quello che per tutta la vita ha chiesto a gran voce? Io sono sicuro che si concederebbe un rinvio di due o tre giorni. Poiché Ulrich rimaneva in silenzio, Diotima gli si rivolse inaspettatamente senza rispondere e domandò severa. Perché mai ha dato certe speranze al generale a proposito della nostra azione? A che generale? Al generale von Stumm, quello grasso piccolo che partecipò alla prima seduta? Io? Non l'ho mai visto dopo di allora e tanto meno gli ho dato delle speranze. Lo stupore di Ulrich era convincente e meritava una spiegazione, ma poiché anche un uomo come Arnheim non poteva dire bugie, bisognava che ci fosse un equivoco e Diotima spiegò su che cosa si fondava la sua supposizione. Dunque io dovrei aver parlato del generale von Stumm con Arnheim? Mai, nemmeno questo, assicurò Ulrich. Con Arnheim io mi conceda un attimo, prego. Rifletté qualche istante e poi scoppiò a ridere. Sarei veramente molto lusingato se Arnheim desse tanto peso a ognuna delle mie parole. Negli ultimi tempi ho conversato sovente con lui, se vogliamo chiamare così i nostri contrasti. E una volta ho anche parlato di un generale, infatti, ma di un generale ipotetico, così per fare un esempio. Dicevo che un generale, che per ragioni strategiche manda dei battaglioni alla morte sicura, è un assassino se si pensa che si tratta di migliaia di figli di mamma, ma diventa subito qualcos'altro se si connette il fatto con altri pensieri, per esempio con la necessità del sacrificio o con la brevità della vita. Mi sono servito anche di molti altri esempi, ma qui lei mi deve concedere una digressione. Per motivi molto evidenti, ogni generazione considera la vita che le si presenta dinanzi come un dato fisso e fermo, tranne pochi cambiamenti a cui è interessata. Ciò è utile, ma è falso. Il mondo potrebbe invece mutare a ogni istante, in tutte le direzioni, o almeno in una qualunque di esse. Ce l'ha, per così dire, nel sangue. Sarebbe quindi un modo originale di vivere quello di chi tentasse una buona volta di non comportarsi come un individuo definito in un mondo definito, dove, direi, non c'è che da girare due o tre bottoni, il modo che si chiama evoluzione. Bensì, fin dal principio, cercare di vivere come un uomo nato per trasformarsi dentro un mondo creato per trasformarsi, cioè pressapoco come una goccia d'acqua dentro una nuvola. Mi disprezza perché sono di nuovo inintellegibile? Non la disprezzo, ma non la capisco, si impazienti di ottima. Mi ripeta piuttosto tutta la conversazione. Beh, fu Arlheim a provocarla. Mi fermò e mi costrinse letteralmente a parlare, incominciò Ulrich. Noi industriali, mi disse con un sorriso molto malizioso che contrastava un poco col suo contegno solitamente pacato, ma era tuttavia pieno di maestà. Noi industriali non calcoliamo, come lei forse potrebbe credere. Al contrario, noi, intendo naturalmente i grandi, quelli che hanno in mano le leve del comando, i piccoli lasciamoli pur calcolare dalla mattina alla sera. Impariamo a considerare le nostre idee, veramente coronate dal successo, come qualcosa che se la ride dei calcoli, un po' come il successo personale dell'uomo politico e, in fondo, anche dell'artista. Poi mi pregò di giudicare quello che stava per dire con indulgenza, dovuta all'irrazionale. Del primo giorno che mi aveva veduto, mi confidò, gli avevo dato molto da pensare e pare che anche lei, gentilissima cugina, mi abbia raccontato di me alcune cose. Ma non ve ne sarebbe stato bisogno, assicurò lui, e dichiarò stupefacente che io avessi scelto un'occupazione del tutto astratta e intellettuale, da che, pur essendo molto dotato per la scienza, sbagliavo nell'essermi fatto scienziato. E il mio reale talento, per quanto ciò potesse meravigliarmi, era invece nel campo del lavoro e dell'azione personale. Davvero, disse Diotima. Sono del suo parere, gentile cugina, Ulrich s'affrettò a replicare. Per nessuna cosa ho così poco talento come per me stesso. Lei scherza sempre, invece di consacrarsi alla vita, opinò Diotima, ancora irritata per le cartelle. Arhan sostiene il contrario. Io sento il bisogno di trarre dal mio pensiero esaurienti conclusioni sulla vita, dice lui. Lei scherza ed è negativo. Sta sempre sul limitare dell'impossibile e scansa ogni vera risoluzione, precisò Diotima. Semplicemente sono convinto, rispose Ulrich, che il pensiero è un'istituzione a sé stante, distinta da quell'altra che è la vita reale. Perché la diversità di grado fra le due è attualmente troppo grande. Il nostro cervello ha qualche migliaio d'anni, ma se avesse pensato tutto soltanto a metà e l'altra metà l'avesse dimenticata, il suo ritratto fedele sarebbe la realtà. Tutto ciò che si può fare è negarle la nostra partecipazione spirituale. Questo non equivale a facilitare troppo il proprio dovere? Chiese Diotima senza intenzione offensiva. Solo così come una montagna guarda un piccolo ruscello che scorre ai suoi piedi. Anche ad Arnheim piacciono le teorie, ma io credo che egli non lasci passare nulla senza indagarne tutte le possibilità. Non pare anche a lei che questo sia il significato del pensiero? Concentrata capacità d'applicazione. No, disse Ulrich. Vorrei sapere che cosa le ha risposto Arnheim. Mi ha detto che oggi lo spirito è spettatore impotente dei vari sviluppi, perché scansa i grandi problemi che la vita ci pone. Mi ha invitato a considerare i meschini argomenti trattati dalle arti, le piccinerie di cui si occupano le varie chiese, la ristrettezza di vedute perfino degli studiosi, e a riflettere che intanto la terra viene letteralmente dilaniata. Poi mi ha dichiarato che proprio di questo intendeva parlare con me. E lei? Che cosa ha risposto? Chiese Diotima ansiosa, credendo di indovinare che Arnheim aveva voluto rimproverare al cugino l'attitudine indifferente di fronte ai problemi dell'azione parallela. E ho risposto che le attuazioni mi attraggono sempre molto meno che le cose inattuate. E con ciò non intendo soltanto quelle del futuro, ma altresì quelle passate, mancate. Mi sembra che la nostra storia sia sempre quella. Nella gioia di aver avverato la minima parte di un'idea, ne lasciamo lì incompiuta la maggior parte. Le grandi istituzioni sono spesso a bozzi di idee miseramente sciupate. E del resto anche certi grandi uomini. Questo, gli ho detto. Le nostre opinioni, per così dire, divergevano nella direzione. Lei cercava di litigare, disse Diotima offesa. Mi ha fatto sapere dal canto suo come mi vede quando ripudio l'azione in favore di qualche inattuato ordinamento intellettuale. Vuole che glielo dica? Come un uomo che si colica per terra accanto a un letto pronto ad accoglierlo. È uno sperpero di forze, quindi qualcosa di fisicamente immorale, ha soggiunto per me personalmente. Mi ha raccomandato di mettermi in testa che scopi spirituali di grande portata si possono conseguire soltanto osservendosi dei rapporti di forza, oggi operanti nel campo economico, politico e non ultimo intellettuale. Per conto suo egli ritiene più morale servirsene che trascurarli. Ha insistito molto. Mi ha definito un uomo molto attivo in posizione di difesa, in spasmodica posizione di difesa. Io credo che qualche motivo non del tutto confessabile lo spinga a volersi guadagnare la mia stima. Decidera esserle utile, esclamò Diotima in tono di rimprovero. «Oh no!», opinò Ulrich, «io non sono altro che un sassolino e lui ha una splendida palla di vetro panciuta. Ma si direbbe che gli abbia paura di me». Diotima non rispose. Le parole di Ulrich potevano essere presuntuose, ma era apparso a un tratto che la conversazione riferita non era affatto come avrebbe dovuto essere, secondo l'impressione su lei prodotta da Arnheim. Ne provò addirittura inquietudine, pur ritenendo Arnheim incapace di intrighi, e la sentì aumentare la propria fiducia in Ulrich e gli chiese che cosa le consigliava riguardo al generale von Stumm. «Se lo tengo lontano», rispose Ulrich, «e di ottimo non poter risparmiare a se stessa il rimprovero di gradire il consiglio». 67. Diotima e Ulrich Le relazioni di Diotima con Ulrich erano intanto molto migliorate, grazie agli incontri frequenti che erano divenuti consuetudini. Dovevano spesso recarsi a far visita insieme, e parecchie volte alla settimana, e gli veniva da lei non di rado senza preannuncio e ad ore inusitate. In tali circostanze era comodo per entrambi, trarre partito dalla loro parentela e mitigare le severe norme sociali. Diotima non sempre lo riceveva in salotto, perfettamente bardata dall'orlo della veste al nodo dei capelli, ma talvolta in domestico desabie, benché si trattasse di un desabie molto moderato. Era sorta fra loro una specie di confidenza, che risiedeva soprattutto nella forma dei loro rapporti, ma le forme hanno un effetto verso l'intimo, e i sentimenti da cui sono plasmate possono anche essere destati da esse. Ulrich aveva a volte la percezione assai prepotente che Diotima era molto bella. Gli sembrava allora una fresca giovenca alta e florida di buona razza. Anche allora egli non la guardava senza quella maligna ironia che si vendicava dell'aristocrazia spirituale di Diotima mediante i paragoni col regno animale, e che nasceva da un corruccio profondo, rivolto non tanto a quell'assurda bambina modello, quanto alla scuola dove erano ammirati i suoi prodigi. Come sarebbe piacevole, gli pensava, se fosse ignorante, trascurata, e così buonaria com'è, sempre un grande caldo corpo di donna quando non si ficca in testa certe idee particolari. La famosa moglie del capo di visione Tuzzi si volatilizzava allora dal proprio corpo, e solo questo corpo restava come un sogno che in un con i guanciali, il letto e il sognatore, diventa una nuvola bianca, tutta sola nel mondo con la sua tenerezza. Ma quando Ulrich ritornava da quei voli della fantasia, vedeva davanti a sé un irrequieto spirito borghese, tutto teso alla conquista di elevati pensieri. D'altra parte l'affinità fisica, unita a un forte contrasto di caratteri, mette a disagio, anzi, basta già l'affinità, la coscienza di sé. Talvolta i fratelli si detestano in un modo che va al di là di ogni possibile giustificazione, per il semplice motivo che essi dubitano l'uno dell'altro, solo perché esistono e si vedono a vicenda come in uno specchio deformante. Bastava a volte il fatto che Diotima aveva quasi la stessa statura di Ulrich per ridestare quel pensiero della loro parentela e ispirargli il disgusto del dirai corpo. Egli aveva trasferito a lei, pur con qualche cambiamento, la funzione che prima era assegnata a Walter, l'amico di gioventù. Quella cioè di mortificare ed eccitare il suo orgoglio, così come vecchi quadri sgradevoli in cui ci riconosciamo, ci umiliano di fronte a noi stessi e in pari tempo sono una sfida al nostro orgoglio. Ne conseguiva che anche nella diffidenza di Ulrich per Diotima doveva esserci qualcosa che riuniva e legava, insomma un soffio di autentica simpatia, così come il passato affettuoso attaccamento per Walter perdurava ancora sotto la forma del sospetto. Per molto tempo Ulrich se ne meravigliò assai, poiché infine Diotima non gli piaceva, senza poterselo spiegare. Qualche volta facevano piccole gite insieme, con l'appoggio di Tuzzi si approfittava delle giornate serene per mostrare a Darnheim, nonostante la stagione inadatta, le bellezze dei dintorni di Vienna. Diotima non usava mai altra espressione che quella frase stereotipa e a Ulrich toccava la parte del parente più anziano che fa la guardia d'onore, perché il capodivisione Tuzzi non si poteva muovere. Più tardi accadde che anche Ulrich e Diotima facessero le gite da soli quando Arnheim era via. Per tali gite, come anche per le occorrenze dell'azione parallela, Arnheim aveva posto a disposizione veicoli in quantità, perché la vettura stemmata di sua signoria dava troppo nell'occhio e tutti la conoscevano. D'altronde non erano carrozze appartenenti ad Arnheim. La gente ricca ne trova sempre dell'altra, che ha gran piacere a farle una cortesia. Quelle gite non erano soltanto di di porto, ma avevano anche lo scopo di ottenere l'adesione di persone influenti o danarose all'azione patriottica e sovente si svolgevano in città piuttosto che in campagna. I due cugini vedevano insieme molte cose belle, vecchi quadri sgradevoli in cui ci riconosciamo, ci umiliamo di fronte a noi stessi e in pari tempo sono una sfida al nostro orgoglio. I due cugini vedevano insieme molte cose belle, mobili Maria Teresa, palazzi barocchi, persone che si facevano ancora portare a braccia per il mondo dal loro servidorame, case moderne con fughe di stanze, palazzi di banche, il misuglio di severità spagnolesca con il tenore di vita delle classi medie nelle abitazioni degli alti funzionari servitori dello Stato. Gli ambienti aristocratici erano i resti di un modo di vivere grandioso ma senza acqua corrente e nelle case e nelle sale di riunione della ricca borghesia se ne vedeva ripetuta la copia, migliorata nel gusto e nei servizi igienici ma alquanto sbiadita. Una casta dominante rimane sempre un poco barbarica, scorie e residui che il fuoco del tempo non aveva bruciati erano rimasti sparsi al loro posto nei castelli patrizi. Vicino agli scaloni d'onore il piede cavalcava tavolati di legno dolce e orrendi mobili nuovi se ne stavano placidi fra stupendi pezzi antichi. La classe degli arricchiti invece, innamorata dei grandi eccelsi monumenti dei suoi predecessori, aveva fatto involontariamente una scelta più raffinata. Se un castello apparteneva una famiglia borghese non lo si vedeva soltanto provvisto di comodità moderne come un lampadario a vito rivestito di fili elettrici ma anche nell'arredamento ben poco di bello era stato eliminato e molte cose di valore erano state aggiunte o di propria scelta o per consiglio indiscutibile di esperti. Quell'affinamento ancor più che nei castelli era evidente nelle abitazioni contadine che secondo il gusto del tempo erano arredate nello stile imperiale e fastoso dei transatlantici ma in quel paese di raffinate ambizioni sociali conservavano grazie a una patina inimitabile all'opportuno isolamento dei mobili o alla posizione dominante di un quadro su una parete l'eco delicata ma chiara di una grande musica svanita. Giotima era deliziata da tanta cultura sapeva già che la sua patria albergava tesori ma quella profusione la sorprendeva erano invitati insieme in residenze campestri e Ulrich notò che vi si vedeva sovente mangiare la frutta con le mani senza sbucciarla mentre nelle case dell'alta borghesia il cerimoniale col coltello e forchetta era rigidamente osservato. La stessa osservazione si poteva fare a proposito della conversazione che quasi soltanto nelle case borghesi era signorile e distinta mentre negli ambienti aristocratici prevalevano i discorsi disinvolti senza pretese alla maniera dei cocchieri. Giotima difendeva entusiasticamente queste abitudini discutendo col cugino. Le timore borghesi lo ammetteva erano più igieniche e più razionali. Nei castelli patrizi l'inverno si gelava. Le scale logore strette non erano una rarità e accanto a sontuose sale di ricevimento si trovavano camere da letto basse e ammuffite. Non esistevano montavivande né bagni per la servitù ma a guardar bene c'era proprio in questo un senso più eroico il senso della tradizione e di una magnifica negligenza e la concludeva inebriata. Ulrich approfittava di quelle gite per studiare il sentimento che lo legava a Diotima ma erano tante le divagazioni i frastornamenti che dobbiamo seguirle un poco prima di arrivare al nocciolo decisivo. Le donne portavano a quei tempi vesti che le coprivano dal collo ai malleoli ed erano perciò più di adesso adattate agli uomini sebbene questi siano vestiti oggi come allora. Infatti rappresentavano nel rapporto vivente l'impeccabile impenetrabilità e il severo riservo che erano il segno della gente di mondo. La limpida sincerità a dimostrarsi senza alcun vero sarebbe apparsa anche a una persona con pochi pregiudizi e non frenata da pudori di sorta nell'apprezzamento del nudo una ricaduta nell'animalesco non per la nudità in sé ma per la rinuncia al civile espediente erotico dell'abbigliamento. Anzi al di sotto dell'animalesco si sarebbe giudicato allora perché un culedro di buona razza e un levriero che gioca sono assai più espressivi nella loro nudità di quanto possa mai essere un corpo umano e poi essi non possono portare vestiti hanno una pelle sola le creature umane invece a quel tempo ne avevano ancora molte con gli abiti lunghi tutti agale sboffi balze frappe e merletti saranno creata una superficie che era cinque volte l'originale e formava un calice ricco di pieghe difficilmente accessibile carico di tensione erotica racchiudente nel suo interno il sottile animale bianco che si faceva cercare rendendosi terribilmente concupiscibile. Era il procedimento prescritto a cui ricorre la natura stessa quando comanda le sue creature di arruffare peli o di emettere nubi di osculità per esaltare i semplici processi dell'amore del terrore fino a una soprannaturale follia. Per la prima volta in vita sua di ottima si sentiva profondamente commossa da quel gioco quantunque in un modo più che decente la civetteria non l'era ignota poiché faceva parte delle attribuzioni sociali che una signora deve padroneggiare e non l'era mai sfuggito che gli sguardi maschili esprimevano qualcosa che differiva dal rispetto anzi ne godeva perché assaporava il potere della dolce riprensione femminile quando costringeva gli sguardi di uomo fissi su di lei come le corna di un toro a rivolgersi verso temi ideali proposti dalla sua bocca ma Ulrich protetto dalla sua qualità di parente e dall'aiuto disinteressato che dava all'azione parallela sotto lo sbergo inoltre del codicillo istituito a suo favore si permetteva licenze che penetravano dritte nel tessuto intricato dell'idealismo di lei così era accaduto una volta in un'espulsione in campagna mentre la carrozza andava lungo deliziose vallate con pendici coperte di oscure foreste diabeti degradanti fino sulla strada che di otima indicandole mormolasse il verso chi ti ha piantata lassù o selva meravigliosa e lo citò naturalmente come poesia senza neppure accennare la melodia relativa perché ciò le sarebbe parso trito e insignificante ma Ulrich rispose la banca agricola della bassa austria non lo sa cugina che tutti questi boschi appartengono alla banca agricola e l'artefice che ella vorrebbe lodare è un ispettore forestale a ciò impiegato qui la natura è un prodotto pianificato dell'industria del legno una serie di depositi per la fabbricazione della cellulosa come d'altronde si vede dalla prima occhiata di questo genere erano assai spesso le sue risposte se lei parlava di bellezza lui parlava del pannicolo adiposo che sostiene la pelle se lei parlava d'amore lui parlava della curva che indica il salire lo scendere del numero delle nascite dell'anno se lei parlava delle grandi figure del mondo artistico lui parlava della catena di plagi che lega quelle figure l'una all'altra succedeva sempre così che di otima incominciava il discorso come se il dio al settimo giorno avesse deposto l'uomo a mo' di perla nella conchiglia del mondo e subito lui le ricordava che l'umanità è un mucchietto di puntini sulla corteccia esterna di un microscopico globo non era facile intendere a che cosa mirasse ulvi con questo probabilmente era rivolto contro quella sfera di grandezza di cui lei si sentiva partecipe e ad otima sembrava innanzitutto offensiva sacenteria non poteva sopportare che il cugino divenuto ormai ai suoi occhi un enfant terrible volesse sapere tutto meglio di lei e i suoi ragionamenti matematici che la non capiva perché appartenevano alla civiltà inferiore dell'aritmetica e della precisione la irritavano profondamente grazie a dio c'è ancora qualcuno gli ribatte un giorno con asprezza che nonostante la grande esperienza sa ancora credere alle cose semplici suo marito per esempio rispose ugl volevo già dirle da un pezzo che lo preferisco di gran lunga ad arnheim avevano preso l'abitudine di dare ai loro scambi di idee la forma di una conversazione su arnheim come tutti gli innamorati infatti di ottima godeva di intrattenersi sull'oggetto del suo amore senza tradirsi almeno così credeva e poiché ulrich se ne irritava come ogni uomo che non allacci alla propria rinunzia qualche secondo fine succedeva sovente che gli facesse sfoghi contro arnheim era sorto così uno strano rapporto che li legava quando arnheim non era in città si vedevano quasi ogni giorno ulrich sapeva che il capo di visione tuzzi diffidava del forestiero come ne aveva osservato lui stesso l'impressione su di ottima fin dal primo giorno fra i due sembrava che non ci fosse ancora nulla di illecito per quanto ne poteva giudicare un terzo confermato in tale congettura dal fatto evidente che fra i due innamorati di illecito venera invece insopportabilmente molto e che essi si sforzavano di imitare i sublimi modelli della comunione spirituale platonica arnheim poi manifestava una sorprendente propensione a introdurre nella loro intimità il cugino della sua amica o che fosse per davvero la sua amante si chiedeva ulrich l'ipotesi più verosimile gli appariva qualcosa come amante più amica diviso due spesso parlava a ulrich in un tono da amico più vecchio che era giustificato dalla differenza d'età ma prendeva una sgradevole sfumatura di condiscendenza per via della differenza di posizione ulrich rispondeva quasi sempre in modo evasivo e abbastanza impertinente come se non stimasse nulla l'amicizia di un uomo che invece che a lui poteva comunicarle sue idee a monarchi e prime ministri spesso lo contraddiceva scortesemente con sconvenevole ironia e si irritava lui stesso per quella mancanza di contegno che avrebbe fatto meglio a sostituire con il piacere della tacita osservazione ma accadeva con sua stessa meraviglia che egli si sentisse violentemente provocato da arnheim vedeva in lui il caso tipico di uno sviluppo spirituale impinguato dal favore degli avvenimenti che gli era odioso c'è che quel famoso scrittore era abbastanza intelligente per capire la posizione precaria in cui si è messo l'uomo da quando non cerca più la propria immagine nello specchio dei ruscelli benché nelle sfaccettature della propria intelligenza ma quel letterato re dell'acciaio ne incolpava l'esistenza stessa dell'intelligenza e non la sua imperfezione c'era una frode in cui l'associazione di anima e prezzo dei carboni che era al tempo stesso un'opportuna dissociazione di ciò che arnheim faceva con chiara consapevolezza da ciò che egli diceva e scriveva nelle sue crepuscolari intuizioni ad accrescere il disagio di urich c'era in più qualcosa che gli era nuovo il connubio di intelligenza e ricchezza perché quando arnheim dissertava quasi come uno specialista su qualche singola questione per poi far scomparire con un gesto indolente i particolari nella luce di un grande pensiero ciò poteva derivare da una necessità non ingiustificata ma in pari tempo quel libero disporre in due direzioni ben denotava il ricco signore che si può concedere ogni cosa costosa e preziosa egli era ricco di spirito in una maniera che ricordava sempre un poco i procedimenti dell'effettiva ricchezza e forse quel che più aizzava urich a mettere in difficoltà il celebre arnheim non era nemmeno questo bensì forse la disposizione che egli dimostrava maneggiare degnamente gli affari pubblici e privati la quale porta con sé il collegamento con le migliori regioni tanto dell'insolito quanto del tradizionale nello specchio di questa competenza gaudenta infatti urich vedeva la grinta contraffatta che rimosse le poche impronte veramente forti del pensiero e della passione è il volto del tempo e quasi non trovava più adito a penetrar meglio all'uomo probabilmente carico di moltissimi meriti si intende che era una lotta insensata la sua in un ambiente che a priori dava ragione ad arnheim e per una causa priva di ogni importanza nel migliore dei casi si sarebbe potuto dire che la sua insensatezza aveva il senso di un auto sciupio senza riserve era anche una lotta senza esito perché se ulrich fosse riuscito per una volta a ferire l'avversario avrebbe dovuto accorgersi di non aver colpito il lato giusto come un essere alato anheim il pratico mentre anheim il teorico pareva giacesse vinto sul terreno si sarebbe alzato con un sorriso indulgente e dall'oziosità di quei vani discorsi si sarebbe affrettato verso l'azione a bagdad o a madrid quella sua invulnerabilità gli permetteva di opporre alla sgarbatezza del più giovane un cameratismo affettuoso di cui ulrich non sapeva spiegarsi l'origine certo ulrich stesso premeva a non avvilir troppo il nemico perché si era proposto di non lasciarsi più trascinare a quelle mediocre e indegne avventure di cui il suo passato era ricco e i progressi che osservava fra arnheim e di otima davano maggior saldezza a tale proposito perciò adattava di solito le punte dei suoi attacchi come quelle dei fioretti che cedono pieghevoli e sono rivestiti di un piccolo involucro destinato ad attenuare gentilmente il colpo la similitudine d'altronde l'aveva trovata di otime era strano ciò che le accadeva con il cugino il viso aperto con la fronte limpida il petto che respirava tranquillo la libera agilità di tutte le membra le dicevano che aspirazioni maligne sornione tortuosamente lascive non potevano abitare nel corpo ed ella era anche un po orgogliosa per il bello aspetto di un membro della famiglia e fin dall'inizio della loro conoscenza aveva deciso di prenderlo sotto la sua protezione se gli avesse avuto i capelli neri le spalle sbilenche la pelle untuosa la fronte bassa di otima avrebbe detto che il suo aspetto corrispondeva alle sue opinioni ma poiché il suo aspetto era tutt'altro e la notavo soltanto un certo contrasto tra quell'aspetto e quelle idee cosa che le cagionava una strana inquietudine in vano le antenne del suo famoso intuito femminile ne cercavano le cause la ricerca però le dava un sottile piacere in un certo senso non del tutto serio si intende in un certo senso non del tutto serio si intende le piaceva talvolta di più intrattenersi con Ulrich che con Arnheim con Ulrich ella contentava meglio il proprio bisogno di superiorità si sentiva più padrona di sé e quelle che giudicava in lui frivolezze stravaganze o immaturità le davano una certa soddisfazione che la compensava dell'idealismo ogni giorno più pericoloso che vedeva crescere incalcolabilmente nei suoi sentimenti per Arnheim l'anima è una faccenda tremendamente seria e per conseguenza il materialismo è una cosa allegra il regolamento dei suoi rapporti con Arnheim la faticava talvolta quanto il suo salotto e il disprezzo per Ulrich le alleviava la vita e la non capiva se stessa ma constatava l'effetto e ciò le permetteva quando si irritava col cugino per qualche suo commento di gettargli un'occhiata di sbieco che era soltanto un sorgisetto dell'angolo dell'occhio mentre l'occhio stesso restava idealisticamente immobile anzi guardava davanti a sé un po' sprezzante ad ogni modo quali che ne fossero i motivi di ottima ed Arnheim si comportavano con Ulrich come due lottatori che s'aggrappano a un terzo e nella paura scambievole lo frappongono fra sé e l'altro e la situazione non era per lui scevra di pericoli perché di ottima suscitava il problema l'uomo deve concordare col proprio corpo oppure no 68 digressione l'uomo deve concordare con il proprio corpo indipendentemente da quello che dicevano i volti nei lunghi tregitti il movimento della carrozza scuoteva i due cugini così che le vesti si toccavano si sovrapponevano un poco e poi tornavano a scostarsi questo si vedeva solo dalle spalle perché il resto era nascosto da una coperta in comune ma i corpi percepivano quel contatto attutito dagli abiti con la stessa sfumata indeterminatezza che ha un paesaggio in una notte di luna Ulrich non era insensibile a tali germinelle dell'amore ma non le prendeva troppo sul serio la raffinata trasposizione del desiderio dal corpo al vestito dall'abbraccio alle resistenze o in una parola dalla meta al cammino si addiceva alla sua natura che dalla propria sensualità era spinta verso la donna ma dalle forze più nobili era messa in sospetto contro la creatura estranea non a fine che egli si vedeva improvvisamente davanti con spietata chiarezza così che si trovava sempre in stridenti alternative di attrazione e di repulsione ma ciò significa che l'alta bellezza del corpo l'umana l'attimo in cui la melodia si sprigiona dallo strumento della natura o quell'altro istante in cui il corpo è come un calice colmo di una mistica bevanda non gli si era mai rivelati in tutta la sua vita a prescindere dai sogni che riguardavano la moglie del maggiore e che avevano abolito in lui per un tempo lunghissimo tali disposizioni da allora tutti i suoi rapporti con le donne erano stati sbagliati e con un po di buona volontà da ambo le parti questo accade purtroppo molto facilmente è uno schema di sentimenti atti complicazioni l'uomo e donna appena gliene venga l'idea trovano pronte a impadronirsi di loro ed è un corso alla rovescia nel quale gli ultimi avvenimenti si precipitano avanti non fluiscono calmi dalla sorgente il puro piacere di due creature che si beano l'una dell'altra questo che è il più elementare il più profondo dei sentimenti amorosi e l'origine naturale di tutti gli altri in un simile stravolgimento psichico non esiste più affatto così non di rado Ulrich durante le passeggiate con Diotima ripensava come era stato da lei congedato dopo la sua prima visita egli aveva tenuto fra le sue quella morbida mano una mano senza peso curata e perfezionata con nobile arte e intanto si erano guardati negli occhi certamente avevano sentito un'avversione reciproca ma pensato che potevano però compenetrarsi l'un l'altro fino a morirne qualcosa di quella visione era rimasta fra loro così due volti si stanno di fronte con spaventosa freddezza mentre i colpi si confondono ardenti senza resistenza va in questo una specie di perfido mito come in un dio a due teste o nel piede forcuto del diavolo Ulrich l'aveva sovente sperimentato in gioventù con molti sviamenti ma infine si era rivelato nient'altro che un borghesissimo stimolante dell'amore proprio come la sostituzione dello spogliato al nudo non c'è nulla che infiammi l'amore borghese come la lusinghiera consapevolezza della propria capacità di costringere il compagno a un'estasi in cui si comporta così pazzamente che bisognerebbe essere un assassino per voler provocare in un altro modo una simile trasformazione è davvero che creature civili possano trasformarsi così che un simile effetto possa emanare da noi non è questa la stupita domanda negli occhi audaci e morenti di tutti quelli che approdano all'isola solitaria della volutà dove si sono assassini destino e dio e toccano nel modo più comodo il massimo grado allora accessibile dell'irrazionalità e dell'avventura la ripugnanza che gli acquistò col tempo per tale specie d'amore finì per estendersi al suo corpo stesso che aveva sempre favorito simili reazioni sbagliate poiché suingava le donne con l'apparenza di una facile maschilità per la quale Ulrich aveva troppo intelletto e troppe intime contraddizioni a volte era addirittura geloso del proprio aspetto come di un rivale che lavora con mezzi volgari e poco puliti il che rivelava una contraddizione che è anche negli altri che non la sentono perché era lui stesso che addestrava quel corpo con esercizi atletici e gli dava la forma l'espressione la prontezza ad agire il cui effetto interno non è troppo trascurabile per poterlo paragonare con l'influsso di un viso sempre ridente o sempre serio sulla disposizione d'animo e strano a notarsi la maggior parte degli uomini hanno un corpo non curato formato e deformato dal caso che pare quasi senza alcun rapporto con la loro indole con la loro mente oppure un corpo coperto dalla maschera dello sport che da loro l'aspetto delle ore in cui prendono congedo da se stessi sono le ore in cui l'uomo insegue ad occhi aperti il sogno dell'apparenza esteriore raccolto con non curanza nei giornali del bel mondo e del gran mondo tutti quei giocatori di tennis muscolosi abbronzati tutti quei cavalieri e automobilisti che hanno l'aria di aver battuto primati mondiali mentre di solito non sono che buoni dilettanti quelle signore ben vestiti o ben svestite sono sognatori ad occhi aperti e si distinguono dai sognatori ordinari solo per il fatto che il loro sogno non rimane nel cervello ma viene costruito in comune all'aria aperta come una creazione dell'anima di massa corporalmente drammaticamente e si potrebbe dire in ricordo di fenomeni occulti molto problematici ideoplasticamente ma con i fantasticatori normali essi hanno in comune una tal quale aridità del loro sogno tanto per la prossimità al risveglio quanto per il contenuto il problema della fisionomia generale sembra che ancora ci voglia sfuggire quantunque si sia imparato a trarre dalla scrittura dalla voce dalla positura nel sonno e da dio sa cos'altro una quantità di conclusioni sulla natura umana che a volte non sono persino sorprendentemente giuste che hanno tuttavia per il corpo come complesso soltanto modelli di moda sui quali esso si plasma o tutt'al più una specie di filosofia naturalista ma questo è il corpo del nostro spirito delle nostre idee intuizioni e progetti oppure delle nostre follie incluse quelle attraenti che Ulrich avesse amato quelle follie e ancora ne fosse preso talvolta non gli impediva di trovarsi a disagio nel corpo da esso creato 69 di ottima e Ulrich seguito ed era soprattutto di ottima che rafforzava in lui così nuovamente quella sensazione che la superficie e il fondo della sua figura vitale non fosse tutt'uno quando usciva in carrozza con lei in quelle passeggiate che a volte erano come viaggi nel chiaro di luna e la bellezza della giovane donna si scioglieva da tutta la sua persona e per qualche momento gli copriva gli occhi come il tessuto ad un sogno la cosa si manifestava chiaramente e gli sapeva bene che di ottima confrontava tutto ciò che egli diceva con ciò che si dice comunemente seppure in una certa sfera più alta del comune e gli piaceva che il lo giudicasse immaturo così che si trovava costantemente come davanti a un cannocchiale puntato su di lui alla rovescia diventava sempre più piccolo e quando parlando con lei faceva l'avvocato del diavolo credeva o almeno non ero lontano dal credere di riudire nelle proprie parole i discorsi degli ultimi anni di scuola nei quali lui e i suoi compagni idoleggiavano tutti gli scellerati e i mostri della storia proprio perché i maestri li definivano tali con idealistica esecrazione e se di ottima lo guardava disgustata diventava ancora più piccolo e dalla morale dell'eroismo e della tendenza a espandersi andava a finire in quella menzognare testarda rozza e intemperante degli sbarbatelli si è detto naturalmente il linguaggio metaforico così come si può scoprire in un gesto o in una parola una vaga riminiscenza di gesti o parole smessi da tempo e persino di gesti che si sono soltanto sognati o visti con dispetto compiere da altri eppure nel suo piacere di scandalizzare di ottima c'era anche quello della nota l'intelligenza di quella donna che senza la sua intelligenza sarebbe stata così bella suscitava in lui un sentimento disumano forse paura dell'intelligenza avversione per tutte le cose grandi era un sentimento debolissimo appena percettibile e forse sentimento era già un'espressione troppo immodesta per quell'ombra per quel soffio appena ma volendolo ingrandire in parole si sarebbe dovuto dire che talvolta Ulrich vedeva corporalmente davanti a sé non soltanto l'idealismo di quella donna ma tutto l'idealismo del mondo nei suoi divulgamenti e nelle sue ramificazioni sospeso un palmo di sopra della scriminatura alla greca poco mancava che non fossero le corna del diavolo allora rimpiccioliva ancora una volta e sempre in linguaggio figurato ritornava alla prima etica passionale dell'infanzia che ha nello sguardo come la gazzella seduzione e paura i sentimenti delicati di quell'età possono infiammare in un solo attimo di abnegazione tutto il mondo ancora piccino perché non hanno scopo né possibilità di produrre un effetto e sono un fuoco assolutamente senza confini la cosa non quadrava bene col suo carattere ma tuttavia Ulrich in compagnia di Diotima sentiva la nostalgia di quei sentimenti infantili che ormai riusciva appena a immaginare perché non hanno quasi più nulla in comune con la condizione dell'adulto e una volta fu sul punto di confessarglielo erano scesi dalla carrozza ed entrati a piedi in una villetta che era come la foce di un fiume di prati dalle rive selvose e formava un triangolo sghembo percorso nel mezzo da un ruscello tortuoso con una sottile crosta di ghiaccio i pendì erano in parte disboscati con pochi alberi rimasti in piedi e sul terreno spoglio e sulla cresta delle colline parevano pennacchi piantati qua e là il paesaggio li aveva attratti a camminare era una di quelle commoventi giornate senza neve che nel cuore dell'inverno appaiono come una veste da estate sbiadita e fuori moda di ottima chiese improvvisamente al cugino perché Arnheim la chiama attivista dice che lei sta sempre almanaccando come bisognerebbe cambiare e migliorare ogni cosa a un tratto si era ricordata che la conversazione con Arnheim su Ulrich e sul generale era finita senza concludere non lo capisco continuò perché a me sembra che ben di rado lei parli sul serio ma devo pur chiederglielo perché abbiamo da svolgere insieme un compito di greve responsabilità ricorda ancora la nostra ultima conversazione lei disse qualcosa affermò che nessuno se avesse tutto il potere realizzerebbe le sue aspirazioni vorrei sapere che cosa ha inteso dire non è un pensiero spaventevole Ulrich non rispose subito e durante quel silenzio di ottima dopo aver pronunziato il suo discorsetto con la massima disinvoltura capì quanto la travagliasse l'illecita domanda se Arnheim e lei avrebbero realizzato quello che ciascuno in segreto desiderava ebbe paura di essersi tradita con Ulrich divenne rossa cercò di impedirlo divenne più rossa ancora e fece vista di ammirare la valle con l'aria più disinteressata del mondo Ulrich aveva osservato la scena temo che l'unica ragione per cui Arnheim come lei dice mi chiama attivista è che egli si sopravvaluta il mio influsso in casa Tuzzi replicò poi lei stessa sa di dover dare ben poco peso alle mie parole ma orora nel momento in cui ella mi interrogava ho capito quale influsso dovrei avere su di lei posso dirglielo senza essere immediatamente biasimato un'altra volta Dottina accennò muta in segno d'assenso e cercò di riprendersi dietro l'apparenza della distrazione comunque io affermavo incominciò Ulrich che nessuno anche se potesse tradurrebbe in realtà le proprie aspirazioni ricorda le nostre cartelle zeppe di proposte e ora le chiedo non le pare che chiunque si sentirebbe in imbarazzo se accadesse improvvisamente ciò che per tutta la sua vita ha ardentemente desiderato se per esempio piombasse a un tratto addosso ai cattolici il regno di dio o lo stato dell'avvenire addosso ai socialisti ma forse ciò non dimostra nulla si si abitua a chiedere e non ci si aspetta di essere subito esauditi forse molti pensano che questo è assai naturale dunque io dico senza dubbio per un musicista la cosa più importante è la musica e per un pittore la pittura probabilmente per uno specialista del cemento armato le case di cemento armato sono l'essenziale crede che perciò l'uno si figurerà il buon dio come uno specialista del cemento e che gli altri preferiscono al mondo reale un mondo dipinto o suonato sul corno inglese lei giudicherà assurda questa domanda ma il grave si è che questo assurdo per essere coerenti bisognerebbe dominarlo esigerlo ed ora non creda le disse guardandola con molta serietà e io volessi dire soltanto che ognuno anela le cose difficili da ottenere e disprezza quelle che facilmente s'avverano io voglio dire questo che nella realtà è un assurdo desiderio di realtà aveva trascinato di ottima molto in là nella piccola valle senza nessun riguardo il terreno forse per la neve che gocciolava giù dai pendii diventava sempre più fradicio ed essi dovevano balzare da una zolla d'erba all'altra il che articolava il discorso e permetteva a Dulrich di seguitarlo a saltelloni c'erano quindi tanti argomenti da opporgli che di ottima non sapeva decidersi per nessuno si erano bagnati i piedi e si fermò su un pezzetto di prato affascinata sgomenta le vesti un po sollevate Uri si bolse indietro e rise si è messa per una strada molto pericolosa illustre cugina la gente felicissima di essere lasciata lì in pace senza poter attuare le proprie idee e lei che cosa farebbe chiese di ottima stizzita se avesse per un giorno il reggimento del mondo non mi resterebbe altro credo che abolire la realtà mi piacerebbe proprio sapere come farebbe non lo so neanch'io non so nemmeno esattamente che cosa intendo dire noi sopravvalutiamo a dismisura il presente il sentimento del presente quello che è qui che c'è per esempio il fatto che lei è adesso qui con me in questa valle come se ci avessero ficcati dentro un paniere il coperto del presente vi fosse caduto sopra noi sopravvalutiamo tutto questo se ne ricorderemo forse tra un anno potremmo ancora raccontare di essere stati qui ma quello che si agita veramente in noi e me almeno attenzione non voglio cercare nomi né spiegazioni da sempre in un certo contrasto con questa maniera dell'esperienza esso è cacciato via dal presente in questa maniera non può diventare il presente le parole di Ulrich risuonavano forti e confuse nella valletta angusta di ottima un tratto si sentì a disagio e volle ritornare alla carrozza ma Ulrich la trattenne e le mostrò il paesaggio mille mille anni fa questo era un ghiacciaio anche la terra non è con tutta l'anima quello che momentaneamente finge di essere e gli spiegò questa creatura tondeggiante è il temperamento isterico oggi racita la parte della provvida madre borghese a quei tempi era frigida e gelida come una ragazza maligna e migliaia d'anni prima sarà comportata lascivamente con feste di felci arborei paludi ardenti e animali diabolici non si può dire che abbia evoluto verso la perfezione né quale sia il suo vero stato e lo stesso vale per la sua famiglia l'umanità pensi soltanto ai vestiti che l'umanità ha portato nel corso del tempo qui dove stiamo adesso ad esprimerlo in termini di psichiatria sarebbe una serie di ossessioni croniche con improvvisi deliri dopo le quali si ha un nuovo concetto della vita vede bene dunque che la realtà si abolisce da sola vorrei dire ancora una cosa riprese urich dopo un poco la sensazione di avere il terreno fermo sotto i piedi e una epidermide soda che mi riveste è in me assai forte sebbene appaia naturale ai più cerchi di ricordare come era lei da bambina tutto un duttile fuoco e poi un adolescente con struggimenti che le bruciavano le labbra in me almeno qualcosa si ribella a considerare la cosiddetta età matura come l'apice di questo sviluppo in un certo senso è vero e in un certo altro no se io fossi il formica leone simile a una libellula inorridirei al pensiero di essere stato un anno prima la tozza larva grigia che vive sul limitare dei boschi rintanata al fondo di un imbuto scavato nella sabbia e ogni tanto scatta per ghermire un insettuccio dopo averlo misteriosamente sfinito bombardandolo di granelli di polvere e talvolta provo lo stesso ribrezzo per la mia gioventù anche se allora era una libellula e adesso sono una bestia feroce eppure lui sapeva bene quel che voleva una storia del formica leone aveva un po scimmiottato l'oniscenza di arnheim ma invece era lì per dire mi conceda un abbraccio solo per cortesia siamo parenti non del tutto divisi ma non certo uniti ad ogni modo in estremo contrasto con una relazione dignitosa e ben definita maurich si ingannava di ottima apparteneva al gruppo delle persone che sono contente di sé e quindi considerano le fasi che attraversano come una scala che conduce dal basso all'alto il discorso di urich le riusciva perciò assolutamente incomprensibile tanto più che ella ignorava ciò che egli aveva tralasciato di dire intanto però erano arrivate alla carrozza così che lei si sentiva tranquilla e tornò a prendere le parole di lui come le solite chiacchiere oscillanti tra il divertente e lo scandaloso e la considerava appena con la coda dell'occhio in quel momento egli non produceva davvero alcun effetto sulla cugina tranne quello disincantato una lieve nuvola di timidezza sorta in lei da qualche cantuccio del cuore si era dissolta in arida vacuità forse per la prima volta e la riconobbe con severa chiarezza e i suoi rapporti con alheim l'avrebbero posta prima o poi di fronte a una risoluzione capace di trasformare tutta la sua vita non si sarebbe potuto dire che quell'intuizione ora la rendesse felice ma aveva la pesantezza di una montagna che realmente le sorgesse davanti ogni debolezza era svanita quel non fare ciò che si vorrebbe aveva brillato per un attimo di assurdo splendore che ella non capiva più arnheim è tutto il contrario di me lui sopravvaluta costantemente la fortuna che hanno il tempo e lo spazio quando si incontrano con lui a formare l'attimo presente sospirò Ulrich sorridendo nell'onesto impulso di concludere quello che aveva detto ma dell'infanzia non fece più parola e così perse l'occasione di rivelarsi a Diotima come uomo pieno di sentimento. 70. Clarice visita Ulrich per raccontargli una storia arredare a nuovo vecchi castelli era lo speciale talento del noto pittore Van Helmond la cui opera più geniale era sua figlia Clarice. Un giorno Costei piombò in attesa in casa di Ulrich. Mi manda papà e la lo informò a vedere se non potresti sfruttare anche un poco per lui i tuoi pezzi grossi dell'aristocrazia. Si guardò intorno curiosa buttò se stessa su una seggiola e il cappello su un'altra poi tece la mano all'ospite. Tuo padre ha di me una stima esagerata e gli incominciò a dire ma Clarice gli tagliò la parola. Oh storie! Lo sai il vecchio ha sempre bisogno di denaro. Gli affari non marciano come prima. Ella rise. È carino qua dentro. Chic! Esaminò di nuovo l'ambiente e poi guardò Ulrich. Il suo contegno rammentava l'amabile incertezza di un cagnolino tormentato dalla cattiva coscienza. Beh disse se puoi lo farai e altrimenti pazienza. Io naturalmente gliel'ho promesso ma sono venuta per un'altra ragione. Con la sua ambasciata mi ha fatto venire un'idea. È qualcosa di strano nella nostra famiglia. Vorrei sapere cosa ne pensi tu. La bocca e gli occhi esitavano ed è per un guizzo. Poi con una spallata ella superò l'ostacolo. Ti suggerisce qualcosa il termine medicina estetica? Un pittore è uno specialista in medicina estetica. Ulrich capì. Conosceva la casa dei genitori di Clarice. Buia, signorile, pomposa, ricca, imbottita, impennacchiata e infiochettata. Ella continuò. Papà è pittore. Il pittore è una specie di medico della bellezza e frequentare la nostra casa è considerato in società una cosa chic come il soggiorno in una stazione balneare. Tu capisci. E da un pezzo l'introito principale di papà è l'arredamento di palazzi e castelli. Conosci i Pachhofen? Era una famiglia patrizia. Ulrich non la conosceva. Anni prima però aveva incontrato una signorina Pachhofen in compagnia di Clarice. Era amica mia, spiegò Clarice. Allora aveva 17 anni e io 15. Papà doveva ricostruire e arredare il castello. Come? Sì, il castello dei Pachhofen. Eravamo tutti invitati. Anche Walter veniva con noi per la prima volta. E Mangast. Mangast? Ulrich non sapeva chi fosse. Ma sì che lo conosci. Mangast che poi andò in Svizzera. Allora non faceva ancora il filosofo ma era il cocco di tutte le famiglie dove c'erano ragazze da marito. Non l'ho mai conosciuto personalmente, precisò Ulrich. Ma adesso ho capito di chi si tratta. Bene. Clarice corrugò la fronte e calcolò mentalmente. Aspetta. Walter aveva allora 23 anni e Mangast qualcuno di più. Credo che in seguito Walter amminasse enormemente papà. Per la prima volta era invitato al castello. Papà aveva sovente indosso qualcosa come un invisibile manto regale. Secondo me Walter era più innamorato di papà che di me. E Lucy? Per l'amor di Dio. Va piano, Clarice, spiegò Ulrich. Ho paura di aver perso il filo. Lucy, riprese Clarice, è la signorina Pachhofen, la signorina del castello dove eravamo tutti invitati. Hai capito adesso? Dunque, renditi conto. Quando papà rivestiva Lucy di velluto e broccato e la poneva in sella uno dei loro cavalli, con il lungo strascico, lei si figurava che papà fosse tiziano o tintoretto. Erano innamorati cotti l'uno dell'altro. Dunque papà era innamorato di Lucy e Walter di papà? Aspetta un momento. Allora c'era l'impressionismo. La pittura di papà era antiquata e musicale. Lo è anche adesso. Salsa bruna con code di pavone. Walter invece amava l'aria libera, le forme funzionali, le linee ben definite, le cose nuove e oneste. In cor suo papà lo detestava come una predica protestante. Del resto non poteva soffrire neppure Mangast, ma aveva due figlie da maritare. Spendeva sempre più quattrini di quanti ne guadagnava e perciò si dimostrava tollerante coi due giovanotti. Walter invece, te l'ho già detto, aveva per papà un'occulta passione, ma in pubblico gli toccava disprezzarlo per via dei nuovi orientamenti dell'arte. Quanto a Lucy, d'arte non ne ha mai capito niente, ma aveva paura di farsi ridere dietro da Walter e temeva che papà, se Walter aveva ragione, fosse considerato un vecchio stupido. Cominci ad afferrare la situazione. A tale scopo, Ulrich voleva ancora sapere che ne era di mamma. C'era anche mamma, naturalmente. Si bisticciavano come sempre tutti i giorni, non di più e non di meno del solito. Tu capisci che in tali circostanze Walter aveva una posizione vantaggiosa. Era diventato qualcosa come il punto di intersezione di noi tutti. Papà aveva paura di lui. Mamma lo alzava e io cominciavo a innamorarmi di lui. Lucy poi lo lusingava. Così Walter aveva su papà un certo potere e principiò ad assaporarlo con guardinga volutà. Io dico che allora gli si rivelò la propria importanza. Senza papà e senza di me non avrebbe mai fatto nulla di buono. Hai capito il nesso di tutte queste cose? Ulrich credette di poter rispondere affermativamente. Ma volevo raccontarti un'altra storia, dichiarò Clarisse. Stette un poco a riflettere, poi disse. Aspetta, prima di tutto pensa soltanto a me e a Lucy. Era un rapporto ben imbrogliato e conturbante. Stavo sempre in ansia per papà, che innamorato com'era pareva sempre di lì per rovinare l'intera famiglia. E naturalmente volevo anche sapere com'è che avvengono simili cose. Erano ammattiti tutti e due. In Lucy si capisce, l'amicizia per me si mescolava alla coscienza di aver per innamorato l'uomo che io dovevo ancora chiamare rispettosamente papà. Era assai orgogliosa, ma nello stesso tempo si vergognava moltissimo di fronte a me. Credo che il vecchio castello, da quando era sorto, non avesse mai albergato simili complicazioni. Tutto il santo giorno Lucy gironzolava con papà e la notte veniva da me, nella torre, a confessarsi. Perché io dormivo nella torre e si teneva la luce accesa quasi tutta la notte. Fino a che punto è arrivata Lucy con tuo padre? È l'unica cosa che non ho mai potuto scoprire. Ma ti figuri quelle notti d'estate? I guffi stridevano, la notte gemeva e quando ci sentivamo troppo spaurite ci colicavamo tutte e due nel mio letto per seguitare a parlare. A noi sembrava che un uomo, travolto da una così funesta passione, non avesse altra via che spararsi. In fondo lo aspettavamo, di giorno in giorno. Io però l'impressione, interruppe Ulri, che fra loro non sia accaduto granché. Lo credo anch'io. Tutto no, ma qualche cosa. Vedrai subito. Lucy dovette lasciare all'improvviso il castello, perché suo padre arrivò inaspettatamente e volle portarsela a fare un viaggio in Spagna. Avresti dovuto vedere papà quando rimase solo. Credo che in certi momenti mancò poco che non strangolasse la mamma. Con un cavalletto portatile che legava dietro la sella, cavalcava dal mattino alla sera senza dare una pennellata e neanche quando restava a casa toccava mai i colori. Devi sapere che lui di solito dipinge come una macchina a vapore. Ma allora lo sorprendevo sovente in una delle grandi sale deserte, con un libro in mano che non aveva nemmeno aperto. Cucì stava a ruminare per ore e ore. Poi si alzava, andava in un'altra stanza o in giardino e faceva lo stesso. Qualche volta per l'intera giornata. Alla fine era un vecchio e la avventura aveva piantato in asso. È comprensibile, no? E io penso che il quadro, veduto tante volte, Lucy e io, due amiche che si tengono per la vita e si scambiano confidenze, deve essere germogliato in lui come un sene cattivo. Forse egli sapeva anche che Lucy veniva sempre a trovarmi nella torre. Insomma, una volta verso le undici di notte, tutte le luci erano già spente nel castello, eccolo che arriva. Dio, che impressione! Adesso Clarisse era trascinata dall'importanza della propria storia. Tu senti quel brancolare pesticciare sulla scala e non sai cos'è. Senti poi maldestramente scuotere la maniglia e aprirsi sinistramente la porta. Perché non hai chiamato aiuto? Questa è la cosa strana. Fin dal primo rumore io sapevo che era lui. Deve essere rimasto immobile sulla porta, perché per un poco non si udì nulla. Probabilmente era anche spaventato. Poi chiuse pian piano la porta e mi chiamò a bassa voce. Mi pareva di precipitare attraverso tutte le sfere celesti. Non volevo rispondergli, ma eccolo strano. Dal mio interno, come se io fossi stata uno spazio profondo, uscì un suono che era come un lamento. Sai com'è? No, continua. Beh, è semplice. E il momento dopo lui si aggrappò a me con una disperazione infinita. Cadde quasi sul mio letto e la sua testa era sul cuscino, accanto alla mia. Piangeva? Era tutto convulso, senza una lacrima. Un vecchio corpo abbandonato. L'ho capito subito. Oh, t'assicuro che se si potesse ripetere più tardi quel che si è pensato in momenti simili, sarebbe proprio qualcosa di grande. Io credo che per via di quello che aveva perduto, una collera cieca contro ogni moralità lo avesse travolto. E a un tratto mi accorgo che si risveglia e intuisco, sebbene fosse buio pesto, che ora spasima per una fame mostruosa di me. So che non c'è in lui né rispetto né riguardo. Da quando m'era sfuggito quel gemito, egli aveva sempre taciuto. Il mio corpo era asciutto e ardente. Il suo era come una carta accostata al fuoco. Era diventato leggero leggero. Sentivo il suo braccio serpeggiare lungo il mio corpo e sciogliersi dalla mia spalla. Ecco, voglio chiederti una cosa. Per questo sono venuta. Clarisse si interruppe. Che cosa? Non mi hai chiesto nulla, l'aiutò Ulrich dopo un breve silenzio. No, prima devo dire ancora qualcos'altro. Al pensiero che egli doveva scambiare la mia immobilità per un segno di consenso? Io ho odiato me stessa. Ma sono rimasta lì, smarrita. Un macigno di terrore pesava sopra di me. Che cosa ne pensi? Non posso dire nulla. Con una mano mi accarezzava il viso e l'altra vagava. Tremante, con infinita innocenza, sai, mi sfiorava il petto come un bacio e poi era come se aspettasse e spiasse una risposta. E alla fine stava per... beh, tu capisci. E intanto il suo viso cercava il mio. Ma allora mi sono svincolata con le ultime forze e mi sono voltata sul fianco. E di nuovo quel suono, che io non conosco in me, così tra il gemito e la preghiera mi è uscito dal petto. Devi sapere che io ho un neo, una voglia scura. E tuo padre? Che cosa ha fatto? Interruppe Ulrich freddamente. Ma Clarisse non si lasciò sviare. Qui, sorrise ansiosa indicò attraverso il vestito, un punto del fianco verso l'interno. È arrivato fin qui. Qui c'è il neo. Questo neo ha un potere meraviglioso. O comunque sia, la cosa è molto strana. Improvviso il sangue le imporporò le gote. Il silenzio di Ulrich la fece ritornare allo stato normale e fugò il pensiero che l'aveva tenuta prigioniera. E la sorrise con imbarazzo e concluse rapidamente. Mio padre si rialzò subito. Io non potevo vedere quello che passava sul suo volto. Immagino che fosse confusione. Forse riconoscenza. Perché io, all'ultimo momento, lo avevo salvato. Te lo figuri? Un vecchio e una ragazzetta che trova la forza di salvarlo. Devo essergli sembrata straordinaria. Perché mi ha stretto la mano con molta tenerezza. E con l'altra mi ha carezzato la testa due volte. Poi se n'è andato, senza dir niente. Allora, farai per lui tutto quello che potrai. Infine dovevo pure spiegarti anche questo. Tringata e corretta nel suo taglier, che portava soltanto quando veniva in città, si alzò per andarsene e gli tese la mano. 71. Il comitato per la stesura di una risoluzione relativa al settantesimo giubileo di regno di sua maestà, incomincia a riunirsi. Della sua lettera al conte Langsdorf e della sua pretesa che Ulrich dovesse salvare Moosbrugger, Clarisse non aveva fatto parola. Pareva che avesse dimenticato tutto quanto. Ma anche Ulrich non ebbe tanto presto occasione di ricordarsene. Perché le manovre preliminari di Diotima, nell'ambito della inchiesta per l'accertamento dei desideri dei circoli interessati della popolazione relativamente al settantesimo giubileo di regno di sua maestà, erano finalmente approdate alla convocazione dello speciale, comitato per la stesura di una risoluzione relativa alla celebrazione del settantesimo giubileo di regno di sua maestà, di cui Diotima si era riservata la direzione. La signoria aveva redatto di suo pugno la circolare per la convocazione. Tuzzi l'aveva corretta e Diotima aveva sottoposto le correzioni ad Arheim prima che fossero approvate. Nello scritto non era omesso nulla di ciò che occupava l'animo di sua signoria. «Si induce a questo convegno?» diceva la circolare. «La convinzione concorde che una grandiosa manifestazione e rompente dal seno del popolo non può essere abbandonata al caso, ma esige una oculata e lungimirante direzione dall'alto». Seguivano poi il festeggiamento eccezionale di un settantennio di prospero e felice impero, le schiere di popoli riconoscenti, l'imperatore della pace, la manchevole maturità politica, l'anno universale austriaco e infine veniva l'ammonimento al capitale e alla cultura di amalgamare tutto ciò in una imponente manifestazione della vera anima austriaca, ma di procedere con molta cautela. Nelle liste di Diotima facevano spicco i gruppi arte, scienza, letteratura ed erano stati accuratamente completati con larghe ricerche, mentre d'altra parte delle persone che potevano partecipare all'evento senza prestare la loro opera, dopo un vaglio severo ne erano rimaste pochissime. Tuttavia il numero dei convocati era così alto che non si poteva pensare a una seduta regolamentare intorno alla tavola verde e bisognava scegliere la forma slegata dei ricevimenti con buffet freddo. Si stava in piedi o seduti come si poteva e le stanze di Diotima sembravano l'accampamento di un esercito spirituale, rifornito di tramezzini, torte, vini, liquori e tè, con un'abbondanza che era resa possibile solo dalle speciali concessioni di fondi fatte dal signor Tuzzi alla consorte. Senza obiezioni bisogna aggiungere, il che significa che egli mirava a servirsi di nuovi metodi diplomatici e spirituali. Dominare mondanamente quell'assembramento era un grave compito per Diotima e forse avrebbe trovato qualche intoppo se la sua testa non fosse stata simile a una magnifica fruttiera colma da cui traboccavano senza pausa le parole, parole con le quali la padrona di casa salutava ogni invitato e lo deliziava per la esatta conoscenza della sua opera più recente. I preparativi per tale fatica erano stati straordinari e avevano potuto essere affrontati con l'aiuto di Arnheim che le aveva messo a disposizione il suo segretario privato per ordinare il materiale e raccogliere in forma riassuntiva i dati più importanti. Il ricco deposito di quel fervore era una vasta biblioteca acquistata col denaro sborsato dal conte Leinstorf per avviare l'azione parallela che insieme con i libri già posseduti da Diotima era collocata come unico ornamento nell'ultima delle stanze sgomberate la cui tapezzeria fiorita per quel poco che ancora ne restava visibile rivelava il Baudouard invitando a lusinghiere riflessioni sull'abitatrice. Ma anche in altra maniera la biblioteca si dimostrava un vantaggioso impiego di fondi perché ciascuno degli invitati dopo la graziosa accoglienza di Diotima gironzolava il resoluto di stanza e veniva immediatamente attratto dalla parete di libri appena la scorgeva. Una fila di schiene si alzava e si abbassava incessantemente davanti ad essa come le api davanti a una siepe di fiori e sebbene la causa fosse unicamente quella nobile curiosità che ogni creatore nutre per le raccolte di libri tuttavia una dolce soddisfazione penetrava l'osservatore fino al midollo quando egli scopriva finalmente le proprie opere e l'impresa patriottica ne traeva il suo utile. In quanto alla direzione spirituale della riunione Diotima lasciò da principio che ognuno facesse quel che voleva però ebbe cura di assicurare fin dall'inizio specialmente ai poeti che nella vita in fondo tutto posava su un'intima poesia perfino l'attività commerciale. A guardare le cose con grandiosità nessuno se ne stupì di quelli che erano stati distinti con un simile discorso ma risultò che quasi tutti credevano di essere stati invitati per dare essi stessi in un'allocuzione breve cioè di 5 fino a 45 minuti un indirizzo all'azione parallela e quando il quale essa non avrebbe più potuto sbagliare anche se successivi oratori avessero sprecato il tempo con inutili ed interrati suggerimenti. Sulle prime Diotima si sentì salire il pianto alla gola e durò fatica a servare un contegno disinvolto perché le sembrava che ciascuno dicesse cose diverse e non riusciva di ridurle a un denominatore comune. Non aveva ancora nessuna esperienza dei gradi di concentrazione dello spirito e poiché una così universale adunata di grandi uomini non si ripete tanto facilmente non c'è che da sforzarsi di intenderlo a passo a passo con ordine pratica e metodo. Vi sono d'altronde sulla terra molte cose che prese separatamente hanno per l'uomo un significato ben diverso che prese insieme. Per esempio tra una moderata quantità d'acqua e una eccessiva c'è la stessa differenza che tra il bere e l'affogare e lo stesso si può dire dei veleni, dei piaceri, dell'ozio, del pianoforte, degli ideali, forse anche di tutte le cose al mondo, così che il solo grado della densità e altre circostanze possono definire la vera natura di una cosa. Bisogna soltanto aggiungere che nemmeno il genio si sottrae a questa regola affinché non si veda nelle impressioni seguenti uno sprezzo degli illustri personaggi che si erano posti disinteressatamente agli ordini di Diotima. Fin da quel primo convegno infatti si poteva riportare l'impressione che ogni grande spirito si sente in una situazione estremamente precaria appena abbandona il riparo della sua torre d'avorio e deve farsi intendere su un terreno comune. Il discorso straordinario che passava sul capo di Diotima come un fenomeno celeste finché ella era sola con uno dei grandi appena interveniva un terzo o un quarto e parecchi discorsi si incrociavano contraddicendosi cedeva il luogo a una penosa incapacità di pervenire a un ordine e chi non rifugia da simili confronti poteva trarne l'immagine di un cigno che dopo il superbo volo continua a muoversi sulla terra. Tuttavia dopo una conoscenza abbastanza lunga anche questo si poteva perfettamente capire. La vita degli spiriti magni ha oggi per sfondo un non si sa a che scopo e si sono circondati di grande reverenza con festeggiamenti tra il loro cinquantesimo e centesimo compleanno o nella ricorrenza dei dieci anni di fondazione di una scuola agraria che si adorna di laureati ad honorem ma anche in altre occasioni in cui occorre parlare del patrimonio culturale germanico. Abbiamo avuto grandi uomini nella nostra storia e li consideriamo un'istituzione nostra giusto come riprigioni o l'esercito quando quest'istituzione c'è bisogna pur ficcarci dentro qualcuno sicché con l'automatismo che ci conviene a simili esistenze sociali si piglia quel tale di cui è la volta e gli si consegnano le onorificenze pronte ad essere conferite ma questa venerazione non è del tutto reale sul fondo sbadiglia la ben nota persuasione che in verità nessuno la merita ed è difficile capire se la bocca si apre nell'ammirazione o nello sbadiglio. È qualcosa del culto dei morti nel dichiarare che un uomo è un genio con la tacità aggiunta che geni non ce ne sono più. È anche qualcosa di quell'amore esterico che dà grande spettacolo di sé per il semplice motivo che gli manca in fondo il sentimento. È intuitivo che la situazione sia poco gradevole per i temperamenti sensibili e che essi cerchino di uscirne ciascuno a suo modo. Gli uni per disperazione s'arricchiscono imparando ad approfittare della grande richiesta non soltanto di spiriti eletti ma anche di uomini fuorilegze di romanzieri arguti di turbolenti figli della natura e di condottieri della nostra generazione. Gli altri portano in capo una invisibile corona regale che non depongono mai in nessun caso e asseriscono con amara modestia che il valore delle loro opere sarà giudicato fra tre o dieci secoli ma tutti considerano una spaventosa tragedia della nazione tedesca che i veramente grandi non entrino mai a far parte del suo vivente patrimonio culturale perché troppo innanzi sulla via dell'avvenire. Occorre però sottolineare che abbiamo parlato finora delle cosiddette intelligenze artistiche perché nei rapporti fra lo spirito e il mondo esiste una differenza molto notevole. Mentre il letterato l'artista vuole essere ammirato allo stesso modo di Goethe e Michelangelo, Napoleone e Lutero? Oggi quasi nessuno sa più il nome di colui che ha fatto all'umanità l'inestimabile dono della narcosi. Nessuno cerca nella vita di Gauss, di Euler o di Maxwell, la presenza di una signora von Stein e a pochissimi interessa sapere dove siano nati e morti Lavoisier e Cardano. Invece si impara come i loro pensieri e invenzioni che hanno stati sviluppati e perfezionati dai pensieri e invenzioni di altre persone altrettanto poco interessanti e si seguita ad interessarsi delle loro realizzazioni che continuano a vivere in altri dopo che il breve fuoco dell'individuo si è spento da tempo. È sorprendente di prima vista constatare come questa differenza separi nettamente le due specie dell'ingegno umano, ma tosto si presentano gli esempi contrari ed essa appare la più naturale di tutte le linee di separazione. Pratica e abitudine si assicurano che è la frontiera fra la persona e il lavoro, fra la grandezza dell'uomo e quella di una causa, fra cultura e sapere, umanità e natura. Lavoro e genio industrioso non accrescono agli occhi del cielo la grandezza morale, la dignità dell'uomo, l'inscindibile scienza della vita che si trasmette solo con gli esempi, gli statisti, eroi, santi, cantori e, ma sì, anche gli attori del cinematografo. Proprio quella grande forza irrazionale di cui anche il poeta si sente partecipe, finché crede nella propria parola e tiene per fermo che per bocca sua, secondo la sua condizione di vita, parla la voce del sangue, del cuore, della nazione, dell'Europa o dell'umanità. È il misterioso tutto di cui egli si sente strumento, mentre quegli altri frugano soltanto nell'intelligibile e a questa missione bisogna credere prima di poter imparare a vederla. Quella che ce ne assicura è senza dubbio la voce della verità. Ma tale verità non porta con sé qualcosa di strano? Perché là dove si considera meno la persona che la causa, sottentra sempre, strano a dirsi, un'altra persona che porta innanzi la causa, mentre là dove la persona che conta, dopo il raggiungimento di una certa altezza, si ha la sensazione che non vi sia più la persona adatta e che la vera grandezza appartenga ormai al passato. Erano tutti geni integrali, quelli convenuti in casa di Diotima, e in una volta sola era fin troppo. Puoi dare pensare che è innato ogni creatura umana come il nuotare a un anatroccolo? Per loro era una professione e certo ci riuscivano meglio degli altri. Ma a che scopo? La loro azione era bella, era grande, era unica, ma tale unicità era come l'atmosfera di un campo santo o il soffitto accumulato della caducità, senza vero senso né scopo, senza origine né continuazione. Enumerevoli ricordi di esperienze ed eventi, miriadi di vibrazioni dello spirito, intersecatesi l'una con l'altra, erano raccolti in quei cervelli che, come gli aghi di un tessitore di tappeti, spuntavano da un tessuto allargato intorno, davanti e dietro loro, senza cucitura e senza orlo, e in certi punti formavano un disegno che si ripeteva altrove, simile e tuttavia un po' diverso. Ma è poi proprio il giusto uso di se stessi a porre una macchiolina di colore sul tessuto dell'eternità? Forse sarebbe esagerato dire che Diotima avrebbe dovuto capirlo, ma ella sentiva soffiare il vento di morte sui campi dello spirito e man mano che quella prima giornata volgeva alla fine cadeva in uno scoraggiamento sempre più profondo. Per sua fortuna ritornò a mente una certa disperazione espressa da Arnheim in un'altra circostanza, parlando di problemi analoghi, e che allora lei non aveva ben capito. Il suo amico si trovava in viaggio, ma lei ricordò come egli l'avesse ammonita a non riporre troppe speranze in quella riunione. E così era in fondo la stessa malinconia di Arnheim, quella a cui ella si abbandonava, tanto che finì per trarne un piacere lusinghevole, triste e quasi sensuale. In verità, ella si chiese, meditando su quella profezia, non è il solito pessimismo che assale ogni volta gli uomini dell'azione quando vengono a contatto con gli uomini della parola. Grazie. 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 Grazie.